Ma ora torniamo alla felicità dei folli. Trascorse la vita in grande letizia, senza nel timore e nel senso della morte, se ne vanno diritti ai campi elisi per dilettare anche lì, con i loro scherzi, il riposo delle anime pie. Paragoniamo quindi la condizione del saggio con quella di questo buffone. Immagina, per contrapporlo a lui, un modello di sapienza, un uomo che abbia consumato tutta la fanciullezza e l'adolescenza a istruirsi in mille modi, perdendo la parte migliore della propria vita e inveglie senza fine, in affanni e fatiche, che nemmeno in tutto il resto della propria vita abbia mai gustato un istante di piacere, sempre parco, povero, triste, austero, inflessibile con se stesso, fastidioso e inviso agli altri, pallido, macilento, cagionevole, invecchiato e incanutito prima del tempo, colto da morte prematura, anche se nulla importa dopo tutto quando muore un uomo così, che non è mai vissuto. Ecco l'immagine perfetta del sapiente. A questo punto sento che le rane del portico si rimettono a gracidare contro di me. Niente, dicono, è più miserevole della demenza, ma una eminente follia è molto vicina alla demenza o è demenza essa stessa? Che cosa infatti è la demenza, se non l'uscire di senno? E costoro ne sono usciti del tutto. Orsu, vediamo di confutare con l'aiuto delle muse anche questo sillogismo. Certo, il loro ragionamento è sottile, ma come il Socrate platonico, procedendo per divisione di una Venere e di un Cupido ne faceva due, così anche i nostri dialettici, se volevano apparire in senno, dovevano distinguere dissenatezza da dissenatezza. Infatti, non ogni follia è fonte di guai. Altrimenti Orazio non si sarebbe chiesto, si prende forse gioco di me un'amabile follia? Né Platone avrebbe collocato il delirio dei poeti, dei vati e degli amanti tra i massimi doni della vita, né la Sibilla avrebbe chiamato folle l'impresa di Enea. In verità ci sono due specie di follia. Una scaturisce dagli inferi tutte le volte che le crudeli idee della vendetta, scatenando i loro serpenti, suscitano nei cuori dei mortali ardore di guerra, o insaziabile sete di oro, o amore turpe e scellerato, parricidio, incesto, sacrilegio e altri consimili orrori, oppure quando travagliano con le furie e le tremende un animo conscio dei propri delitti. L'altra non ha nulla in comune con questa, nasce da me e tutti la desiderano. Si manifesta ogni volta che una dolce illusione libera l'animo dall'ansia e lo colma insieme di mille sensazioni piacevoli. Proprio questa illusione, Cicerone, scrivendo ad Attico, augura a se stesso come un gran dono degli dèi per potersi liberare dall'oppressione dei gravi malincombenti. Ne aveva torto quell'argivo che era pazzo al punto da sedere da solo in teatro per giornate intere, ridendo, applaudendo, godendosela, perché credeva vi si rappresentassero tragedie bellissime mentre non si rappresentava proprio nulla. Eppure in tutte le altre faccende della vita era perfettamente normale e cordiale con gli amici, gentile con la moglie, capace di perdonare i servi e di non dare in escandescenze se il sigillo rotto denunciava la bottiglia aperta. Guarito dalle cure dei familiari che gli somministrarono le medicine del caso, tornato del tutto in sé, così si lamentava con gli amici. Per polluce, mi avete ammazzato, amici miei, e non salvato privandomi del piacere e togliendomi con la forza quella mia così dolce illusione. Aveva ragione, erano loro che sbagliavano e che, più di lui, avevano bisogno dell'ellebro, loro che credevano di dover estirpare con le medicine quasi fosse un malanno una così felice e piacevole follia. Tuttavia non ho ancora accertato se qualunque errore del senso o della mente meriti il nome di follia. Se uno che ci vede poco scambia un mulo per un asino, se un altro ammira come un monumento di dottrina una rozza poesia, non si può senz'altro chiamarlo pazzo. Ma se uno sbaglia non solo col senso, ma anche col giudizio della mente, e questo gli accade sempre in proporzioni insolite, di lui sì, diremo che, ha un ramo di pazzia. Come chi, sentendo un asino ragliare, credesse di ascoltare un meraviglioso concerto, o chi, povero e di umili origini, credesse di essere creso, re di Lidia. Ma quando questa specie di follia, come di solito accade, assume aspetti piacevoli, è di non piccolo diletto sia per coloro che ne sono posseduti, sia per quelli che stanno a vedere senza esserne colpiti. Si tratta, si badi, di un'affezione molto diffusa, più di quanto di solito si crede. Il pazzo ride del pazzo, e a vicenda si offrono diletto, e non di rado vi accadrà di vedere che, di due pazzi, è il più pazzo quello che più si prende gioco dell'altro. Eppure, ve lo assicura la follia in persona, uno è tanto più felice quanto più la sua follia è multiforme, purché si mantenga entro il genere a me peculiare. Un genere così diffuso che non so se fra tutti gli uomini se ne possa trovare uno solo che sia costantemente saggio e che sia del tutto immune da una qualche forma di pazzia. La differenza è tutta qui. Chi vedendo una zucca la scambia per la moglie viene chiamato pazzo perché la cosa succede a pochissimi. Chi invece, avendo la moglie in comune con molti, giura che è più virtuosa di Penelope e, felice del suo errore e orgoglioso di sé, nessuno lo chiama pazzo perché la cosa accade spesso ed ovunque. Appartengono alla confraternita anche coloro che disprezzano tutto in confronto ad una partita di caccia e vanno dicendo di provare un incredibile piacere tutte le volte che sentono il suono cupo del corno e l'abbaiare dei cani. Credo che anche gli escrementi dei cani, quando li annusano, mandino per loro profumo di cinnamomo. E quale dolcezza squartare la selvaggina! L'umile plebe può squartare tori e castrati, ma sarebbe un delitto farlo con un capo di selvaggina. Questa è prerogativa di nobili. A capo scoperto sta il nobile, piegati i ginocchi col coltello destinato allo scopo e vietato servirsi di uno strumento qualunque, con gesti rituali, impio raccoglimento, taglia determinate membra in un determinato ordine. Una folla silenziosa lo circonda, ammirata, come se assistesse a non so quale nuovo rito, mentre si tratta di uno spettacolo visto e rivisto. Se poi uno ha la fortuna ad assaggiare un bocconcino della preda, crede di avanzare non poco in nobiltà. Costoro, cacciando e cibandosi in continuazione di selvaggina, mentre ottengono solamente di trasformarsi pressappoco in fiere, si illudono invece di menar vita da re. Molto simili sono quanti in preda alla frenesia del costruire, senza pausa trasformano il quadrato in rotondo o il rotondo in quadrato. Procedono ignari di ogni limite e misura finché, ridotti in estrema povertà, non hanno più né tetto né cibo. Ma che gli importa del dopo? Intanto, per alcuni anni sono stati immensamente felici. Molto vicini a costoro, mi pare, sono quelli che con arti nuove e arcane tentano di trasformare la natura degli elementi e cercano per terra e per mare la quinta essenza. Si nutrono di una speranza così dolce da non tirarsi mai indietro di fronte a spese o fatiche, e con mirabile spirito inventivo ne pensano sempre qualcuna per ingannarsi una volta di più e per rivestire l'inganno di liete apparenze finché, dato fondo a tutto loro, non possono costruire più niente, nemmeno un fornello. Non per questo, tuttavia, smettono di sognare i loro bei sogni, ma spingono con tutte le loro forze anche gli altri verso la medesima felicità. E quando l'ultima speranza li ha abbandonati, resta tuttavia a consolarli pienamente un detto. Le grandi cose basta averle volute. Accusano allora la brevità della vita, inadeguata alla grandezza dell'impresa. Sono in dubbio se annoverare nella nostra congrega i giocatori, tuttavia è decisamente uno spettacolo di spassosa follia vedere a volte gente così schiava del gioco da sentirsi venire le palpitazioni appena giunge al loro orecchio il rumore di dati. Quando poi, obbedendo al costante stimolo della speranza di vincere, vedono naufragare tutta la loro fortuna, infranta contro lo scoglio del gioco, ben più insidioso del capo malea, appena in salvo, nudi di tutto per non farsi la fama di uomini poco seri, defraudano chiunque piuttosto che chi nel gioco li ha vinti. E che dire di quando ormai vecchi, con la vista che vacilla, ricorrendo alle lenti continuano a giocare. E quando infine la meritata gotta impedisce l'uso delle mani, arrivano a pagare un sostituto che getti sulla tavola per loro i dadi. Gran bella cosa sarebbe il gioco se il più delle volte non volgesse in passione rabbiosa, ma qui siamo ormai nel regno delle furie, non nel mio. È senza dubbio della mia pasta invece la schiera di quegli uomini che si divertono ad ascoltare o narrare storie di miracoli o di prodigi fantastici e non si stancano mai di ascoltare favole in cui si parla di eventi portentosi, di spettri, di fantasmi, di larve, degli inferi o di altre innumerevoli cose del genere. Quanto più la favola si scosta dal vero, tanto più volentieri ci credono, tanto più voluttuosamente le loro orecchie ne sono solleticate. Di qui non solo un apprezzabile passatempo contro la noia, ma anche una fonte di guadagno, specialmente per i sacerdoti ed i predicatori. Sono della stessa razza quanti nutrono la folle ma piacevole convinzione di non essere esposti a morire in giornata se hanno visto il simulacro ligneo, l'immagine dipinta di un gigantesco San Cristoporo, il nuovo Polifemo, o credono di tornare sani e salvi dalla battaglia se hanno rivolto le debite preghiere alla statua di Santa Barbara, o di arricchirsi in breve rendendo omaggio a Santerasmo in certi giorni con speciali moccoli e determinate formulette. In San Giorgio hanno scoperto una specie di Ercole e hanno anche un secondo Ippolito. Quasi adorano il suo cavallo dopo averlo adornato con la massima devozione di falere e di borchie, ne risparmiano offerte di ogni sorta per accaparrarsi la benevolenza del santo, giurare per il suo elmo di bronzo secondo loro è proprio degno di un re. Che dire poi di quelli che, nella dolcissima illusione di immaginarie indulgenze accordate ai loro peccati, computano quasi con l'orologio alla mano il periodo da passare in purgatorio, numerando secoli, anni, mesi, giorni, ore, secondo una sorta di tavola matematica sicura al cento per cento. O di quelli che fidando in segni magici o in giaculatorie inventate da qualche pio ciurmadore, o per naturale disposizione o a scopo di lucro, non pongono limiti alle loro speranze. Ricchezze, onori, piaceri, abbondanza di tutto, una salute costantemente ottima, una lunga vita, una vecchiaia vegeta, e alla fine, nel regno dei cieli, un seggio proprio accanto a Cristo. Questo però, senza fretta, per carità, ben vengano le delizie dei beati, ma quando, con disappunto, dovranno lasciare i piaceri della vita a cui sono abbarbicati con le unghie e coi denti. Immagina un negoziante, ma anche un soldato, un giudice, rinunciando a una sola monetina dopo tante ruberie, crede di aver lavato una volta per tutte il fango di un'intera vita, un'autentica palude di Lerna, e ritiene che tanti spergiuri, tanta libidine, tante ubriacature, tante risse, tante stragi, tante imposture, tante perfidie e tanti tradimenti, siano riscattati come in base ad un regolare patto, e riscattati al punto da poter ricominciare da zero una nuova catena di delitti. E chi è più folle, o meglio più felice, di quanti recitando ogni giorno sette versetti del salterio si ripromettono una beatitudine sconfinata? A indicare a San Bernardo quei magici versetti si crede sia stato un demone faceto, più sciocco in vero che furbo, se poveretto rimase intrappolato nel suo stesso inganno? Roba da matti, persino io me ne vergogno, sono cose tuttavia che godono l'approvazione non solo del volgo, ma anche di chi propine insegnamenti religiosi. O non è forse lo stesso caso di quando ogni regione reclama al suo particolare santo protettore, ognuno coi suoi poteri, ognuno venerato con determinati riti? Questo fa passare il mal di denti, quello assiste le partorienti, c'è il santo che fa recuperare gli oggetti rubati, quello che rifulge benigno al naufrago, un altro che protegge il gregge e via discorrendo, troppo lungo sarebbe elencarli tutti. Ve ne sono chi è da soli, possono essere utili in parecchi casi, vi ricordo la vergine madre di Dio, alla quale il volgo attribuisce quasi più poteri che al figlio. Infine, che cosa chiedono gli uomini a questi santi se non cose che sanno di follia? Fra tanti ex voto di cui sono zeppe le pareti e persino le volte di certe chiese, ne avete mai visti di chi fosse guarito dalla follia o che fosse diventato sia pure uno zinzino più saggio. Qualcuno si è salvato a nuoto, un altro ferito dal nemico è riuscito a sopravvivere, chi ha abbandonato il campo mentre gli altri combattevano ne è uscito con fortuna salvando anche l'onore. Uno, con l'aiuto di un santo protettore dei ladri, è caduto dal patibolo per poter continuare ad alleggerire delle loro ricchezze quelli che non le meritano. Chi è fuggito dal carcere forzando la porta, un altro è guarito dalla febbre con disappunto del medico. A uno la bevanda velenosa non è stata letale perché, sciogliendogli il corpo, gli è servita da medicina, con scarsa soddisfazione della moglie che si era data da fare per niente. Un uomo, pur essendogli si rovesciato il carro, ha riportato sani e salvi i cavalli, un altro ancora è rimasto sotto le macerie e sopravvissuto. Uno, infine, colto sul fatto da un marito, è riuscito a svignarsela. Nessuno che renda grazie per essere stato guarito dalla pazzia. Gran bella cosa mancare di senno se i mortali tutto deprecano fuori che la follia. Ma perché poi mi vado a cacciare in questo mare di superstizioni? Cento lingue, cento bocche, un'ugola di ferro, non mi basterebbero a enumerare tutte le varietà di pazzi, a elencare tutte le forme di follia. Virgilio, Eneide. A tal punto la cristianità intera, trabocca di vaneggiamenti del genere, e i sacerdoti stessi sono pronti ad ammetterle e incoraggiarle, non ignorando il guadagno che di solito ne viene. Se però, nel frattempo, qualche odioso saggio si levasse a dire le cose come stanno, morirai bene se bene hai vissuto, laverai i tuoi peccati se all'offerta di una moneta aggiungerai il pentimento con lacrime, veglie, preghiere, digiuni e un radicale cambiamento di vita, avrai la protezione di questo santo se ne imiterai la vita. Se quel saggio si mettesse a ripetere queste cose ed altre del genere, vedresti in quale sgomento farebbe precipitare le anime dei mortali, prima così colme di letizia. Rientrano in questa congrega coloro che da vivi stabiliscono la pompa del proprio funerale con tanta cura da indicare il numero delle torce, degli incappati, dei cantori, dei lamentatori di mestiere, come se dovessero avere un qualche sentore dello spettacolo o, se da morti, potessero vergognarsi qualora il cadavere non fosse sepolto con la debita magnificenza, a somiglianza di chi, elevato ad una carica, si preoccupa di organizzare giochi e banchetto. Per quanto cerchi di non dilungarmi, non riesco proprio a passare sotto silenzio coloro che in nulla diversi dall'ultimo ciabattino si compiacciano tuttavia oltremodo di un vano titolo nobiliare. Chi a sentir lui discende da Enea, chi da Bruto, chi da Arturo, mostrano da ogni parte gli antenati in effigie, ritratti da scultori e pittori. Ti enumerano uno dopo l'altro bisavoli e trisavoli, ricordandone gli antichi soprannomi, mentre per parte loro non dicono molto di più di una muta statua, anzi dicono meno dei ritratti che ostentano. E tuttavia il dolce amore di sé le fa vivere in perfetta letizia, ne mancano gli sciocchi che guardano a questa razza di animali come se fossero divinità. Ma perché perdermi a parlare dell'una o dell'altra specie di gente, come se dappertutto la nostra pilautia non fosse per tanti e nelle forme più inattese fonte di grandissima felicità. Questo qui è più brutto di una scimmia e si crede un nireo, un altro appena ha tracciato tre linee col compasso si crede a Euclide, un altro ancora che sta come un asino davanti alla lira ed ha mezzi vocali degni di un gallo in amore quando si avventa sulla gallina, si immagina ad essere un secondo ermogene. Un posto a parte merita quell'ineffabile genere di follia per cui tanti, se uno dei loro servi ha delle doti, se ne gloriano come di cosa propria. Come quel riccone doppiamente felice di cui parla Seneca che, se doveva raccontare una storiella, teneva d'intorno i serbi perché gli suggerissero i nomi e, fidando nel fatto di averne in casa tanti assai ben piantati, pur essendo così debole da reggere l'anima coi denti, non avrebbe esitato a cimentarsi in una gara di pugilato. A che ricordare chi fa professione di artista? La filautia è peculiare a tutta questa gente a tal segno che faresti prima a trovarne uno disposto a cedere il campicello paterno che a rinunziare al suo talento, soprattutto nell'ambito degli attori, dei cantori, degli oratori e dei poeti. Quanto più uno lascia a desiderare, tanto più è arrogante nell'autocompiacimento, tanto più si vanta, tanto più si gonfia. Il simile ama il simile e quanto meno si vale, tanto più si è ammirati. I più vanno sempre dietro alle cose peggiori perché, come ho detto, la maggior parte degli uomini è soggetta alla follia. Quindi, se chi è più ignorante è più contento di sé e ha più largo successo, cosa mai lo dovrebbe indurre ad optare per una cultura autentica che, in primo luogo, gli costerebbe parecchio e, in secondo luogo, lo renderebbe più fragile e più timido e, infine, restringerebbe sensibilmente la cerchia dei suoi ammiratori. Mi rendo conto che la natura, come ha infuso un amor proprio particolare nei singoli individui, ne ha instillato uno comune a tutti i cittadini di ciascuna nazione e, starei per dire, di una stessa città. Di qui la pretesa degli inglesi di primeggiare, oltre che nel resto, sul piano della bellezza, della musica, delle laute mense. Gli scozzesi vantano nobiltà, parentele e regali, nonché dialettiche sottigliezze. I francesi rivendicano la raffinatezza dei costumi. I parigini pretendono la palma della scienza teologica, vantandone un possesso quasi esclusivo. Gli italiani affermano la loro superiorità nelle lettere e nell'eloquenza e si cullano tutti nella dolcissima convinzione di essere i soli non barbari fra i mortali. Primi in questo genere di felicità sono i romani, ancora immersi nei bellissimi sogni dell'antica Roma. Quanto ai veneti, si beano del prestigio della loro nobiltà. I greci, quali inventori delle arti, si vantano delle antiche glorie dei loro famosi eroi. I turchi e tutta quella massa di autentici barbari, pretendono il primato anche in fatto di religioni e quindi deridono i cristiani come superstiziosi. Molto più gustoso è il caso degli ebrei, che aspettano sempre incrollabili il proprio messia e ancora oggi si tengono aggrappati al loro Mosè. Gli spagnoli non la cedono a nessuno in fatto di gloria militare, i tedeschi si compiacciano dell'alta statura e della conoscenza della magia. Senza andare dietro ai casi particolari, vi rendete conto, penso, di quanto piacere venga dalla filautia agli individui e ai mortali in genere? Le sta quasi alla pari la sorella adulazione. La filautia, infatti, consiste nell'accarezzare se stessi se si accarezza un altro si tratta di adulazione. Oggi, però, l'adulazione non gode buona fama, ma questo fra coloro per cui le parole valgono più delle cose. Ritengono che l'adulazione non si può accompagnare alla fedeltà, mentre potrebbero rendersi conto di quanto sbagliano solo se guardassero all'esempio che viene dalle vestie. Chi, infatti, più adulatore del cane e al tempo stesso chi più fedele? Chi è più carezzevole dello scoiattolo, ma chi più di lui amico dell'uomo? A meno che non si vogliano considerare più utili all'uomo i fieri leoni e le crudeli tigri o i feroci leopardi. Anche se è vero che c'è una forma d'adulazione davvero perniciosa con cui taluni, perfidamente beffando i poveri ingenui, li portano alla rovina. Questa mia adulazione, invece, ha radice in un certo bonario candore, ed è molto più vicina alla virtù di quella durezza e severità ruvida e stiziosa di cui parla Orazio e che si suole contrapporle. La mia adulazione rincuora gli animi abbattuti, raddolcisce la tristezza, riscuote dall'inerzia, sveglia gli ottusi, da sollievo ai malati, mitiga i violenti, mette pace fra gli innamorati e ne conserva la buona armonia. Attira i fanciulli allo studio delle lettere, rallegra i vecchi, ammonisce e ammaestra i principi senza offenderli sotto specie di lodarli. Insomma, fa in modo che ciascuno sia di sé più contento e a sé più caro, il che è parte della felicità e addirittura la parte più importante. Che cosa può esservi di più gentile di due muli che si grattano a vicenda? Per non aggiungere che questa mia adulazione è una notevole parte della celebrata eloquenza e costituisce la parte maggiore della medicina. Della poesia, poi, è la componente massima ed è miele e condimento di tutte le relazioni umane. Ma è male, dicono essere ingannati. C'è molto di peggio. Non essere ingannati. Sono infatti proprio privi di buonsenso quanti ripongono la felicità dell'uomo nelle cose stesse. Essa dipende dal nostro modo di vederle. Infatti tale è l'oscurità e varietà delle cose umane che niente si può sapere con chiarezza, come giustamente affermano i miei accademici, i meno presuntuosi dei filosofi. Se poi qualcosa si può sapere, spesso abbiamo poco da rallegrarcene. L'animo umano infine è fatto in modo tale che la finzione lo domina molto più della verità. Chi ne volesse trovare una prova facilmente accessibile potrebbe andare in chiesa a sentir prediche. Qui, se il discorso si fa serio, tutti sonnecchiano, sbadigliano, si annoiano. Ma se l'urlatore di turno, è stato un lapsus, volevo dire l'oratore, come spesso succede, prende le mosse da qualche storiella da vecchierelle, tutti si svegliano, si tirano su, stanno a sentire a bocca aperta. Del pari, se c'è un santo leggendario e poetico, per esempio San Giorgio, San Cristoforo o Santa Barbara, lo vedrete venerare con molto maggiore pietà di San Pietro e San Paolo e dello stesso Gesù Cristo. Ma di questo qui non è il luogo. Costa veramente poco conquistare la felicità illusoria che dicevo. Le cose vere, anche le meno rilevanti come la grammatica, costano tanta fatica. Un'opinione invece costa così poco e alla nostra felicità giova altrettanto se non di più. Se per esempio uno si ciba di pesce in salamoia andato a male, di cui un altro neppure potrebbe sopportare il puzzo, mentre per lui sa d'ambrosia. Di un po', che cosa mai gli impedisce di godersela? Al contrario, se a uno lo storione dà la nausea, che razza di piacere ne trarrà? Se una moglie decisamente brutta al marito sembra tale da poter gareggiare con la stessa venere, non sarà forse come se fosse bella davvero? Se uno contempla ammirato una tavola impiastricciata di rosso e di giallo, persuaso di trovarsi davanti ad un dipinto di apelle o di zeusi, non sarà forse più felice di chi ha comprato a caro prezzo un'opera di quegli artisti per poi gustarla forse con minore passione? Conosco un tale che si chiama come me e che alla sposa a novella donò alcune gemme false facendogliele credere con la parlantina che aveva, non solo assolutamente vere, ma anche rare e di valore inestimabile. Ditemi un po', che differenza c'è per la fanciulla, visto che quei pezzetti di vetro rallegravano altrettanto i suoi occhi e il suo cuore, se conservava gelosamente presso di sé delle sciocchezzuole di nessun valore come se fossero chissà qual tesoro. Il marito frattanto evitava una spesa e godeva dell'illusione della moglie che gli era grata come se avesse ricevuto doni di gran pregio. Che differenza pensatevi sia fra coloro che nella caverna di Platone contemplano le ombre e le immagini delle varie cose senza desideri, paghi della propria condizione, e il sapiente che uscito dalla caverna vede le cose vere? Se il micillo di Luciano avesse potuto continuare a sognare in eterno il suo sogno di ricchezza, che motivo avrebbe avuto di desiderare un'altra felicità? La condizione dei folli perciò non differisce in nulla da quella dei savi, o meglio, se in qualcosa differisce, è preferibile. Innanzitutto perché la loro felicità costa ben poco, solo un piccolo inganno di sé. E poi perché ne godono insieme con moltissimi e non c'è bene di cui si possa godere davvero se non si ha qualcuno con cui dividerlo, Seneca e Pistule Morales. E chi non sa quanto pochi sono i sapienti, seppur qualcuno ben è. In tanti secoli i greci ne contano in tutto sette, e anche di questi, per Ercole, se si andasse a guardare meglio, nessuno o paura risulterebbe sapiente a metà, e forse neppure per un terzo. Perciò, se dei molti meriti di bacco, giustamente si considera il più importante la capacità di scacciare gli affanni, e anche questo solo finché, appena smaltita la sbornia, gli affanni tornano all'assalto, come dicono su bianchi destrieri. Quanto più completo ed efficace è il mio beneficio, per cui l'animo, in un'ebrezza perenne, senza nessuna fatica si riempie di gioia, di piaceri, di esultanza. Ne lascio alcun mortale privo del mio dono, mentre i doni degli altri dèi vanno ora a questo, ora a quello. Non sgorga dappertutto a scacciare gli affanni un dolce vino generoso fecondo di speranze. A pochi la bellezza, dono di venere, meno ancora sono quelli a cui tocca l'eloquenza, dono di mercurio. Non molti hanno in sorte col favore di Ercole le ricchezze, né il giove omerico concede a tutti l'imperio. Spesso Marte nega il suo appoggio ad entrambi i contendenti, parecchi lasciano il tripode di Apollo con la tristezza in cuore. Il figlio di Saturno scaglia spesso i suoi fulmini, a volte febo, coi suoi dardi diffonde la peste. Nettuno ne uccide più di quanti ne salva, per non menzionare cotesti veiovi, plutoni, sventure, pene, febbri e simili, che non sono divinità ma carnefici. Io, la follia, sono la sola a stringere tutti ugualmente in così generoso abbraccio. Non voglio preghiere e non mi sdegno per avere offerte spiatorie se qualche particolare del cerimoniale è stato trascurato. Se, quando tutti gli altri dei sono invitati, mi lasciano a casa, non permettendomi neanche di annusare il buon odore delle vittime, non ne faccio una tragedia. Quanto agli altri dei, invece, sono così suscettibili che quasi meglio sarebbe, senza dubbio sarebbe più prudente, lasciarli perdere piuttosto che venerarli. Come certi uomini, così difficili e irritabili, che è preferibile non conoscerli affatto piuttosto che averli amici. nessuno, dicono, offre sacrifici o innalza templi alla follia. Di questa ingratitudine, come dicevo, un poco mi stupisco, anche se poi, col buon carattere che mi ritrovo, ci passo sopra. D'altronde, onori del genere esulano dai miei desideri. Perché mai dovrei desiderare un pugno di incenso, una focaccia, un becco o un porco, quando gli uomini di tutto il mondo mi tributano un culto che persino dai teologi viene tenuto nel massimo pregio. A meno che non debba mettermi ad invidiare Diana perché riceve i sacrifici di sangue umano. Io ritengo di essere venerata col massimo della devozione quando tutti gli uomini, come di fatto succede, mi hanno in cuore e modellano su di me i loro costumi, le loro regole di vita. Una forma di culto che non è frequente neppure fra i cristiani. Quanti sono, infatti, coloro che accendono alla Vergine Madre di Dio un candelotto magari a mezzogiorno, quando proprio non ce n'è bisogno. D'altra parte, quanto pochi cercano di imitarne la castità, la modestia, l'amore per il regno dei cieli. Mentre è questo alla fine il vero culto, il più gradito agli abitatori del cielo. Inoltre, perché mai dovrei desiderare un tempio quando l'universo è il mio tempio? È un gran bel tempio, se non erro. Né mi mancano i devoti, se non dove mancano gli uomini, né sono così sciocca ad andare in cerca di statue di pietra dipinte a colori, che spesso nuocciano al nostro culto perché i più ottusi adorano le immagini invece delle divinità, mentre a noi capita quello che di solito succede a quanti sono soppiantati dai loro rappresentanti. Io credo di avere tante statue quanti sono gli uomini che, anche senza volere, mostrano nel volto la mia immagine vivente. Non ho nulla da invidiare agli altri dèi, se vengono venerati chi in un cantuccio della terra, chi in un altro, e solo in giorni determinati, come Febo a Rodi, Venere a Cipro, Giunune ad Argo, Minerva d'Atene, Giove sull'Olimpo, Nettuno a Taranto, Priepo a Lamsaco. A me il mondo intero offre senza sosta vittime ben più pregiate. Se qualcuno giudica questo mio discorso più baldanzoso che veritiero, andiamo un po' a vedere la vita stessa degli uomini, per mettere in chiaro quanto mi devono e in che conto mi tengono tanto i potenti come i poveri diavoli. Non esamineremo la vita di uomini qualunque, si andrebbe troppo per le lunghe, ma solo quella di personaggi segnalati, da cui sarà facile giudicare gli altri. Che importa infatti parlare del volgo e del popolino che, al di là di ogni discussione, mi appartiene senza eccezioni? Tante, infatti, sono le forme di follia di cui da ogni parte il popolo trabocca, tante ne inventa di giorno in giorno che per riderne non basterebbero mille democriti, anche se poi, per quegli stessi democriti, ci vorrebbe ancora un altro democrito. È quasi incredibile quanti motivi di riso, di scherzo, di piacevole svago i poveracci offrono agli dèi. Agli dèi che dedicano le ore antimeridiane quando ancora non sono ubriachi a litigiosi discussioni e all'ascolto delle preghiere. Ma poi, quando sono ebri di nettere e non hanno più voglia di attendere a faccende serie, seduti nella parte più alta del cielo si chinano a guardare cosa fanno gli uomini, né c'è spettacolo che gustino di più. Dio immortale, quello sì che è teatro. Che varietà nel tumultuoso agitarsi dei pazzi, io stessa, infatti, talvolta vado a sedermi nelle file degli dèi dei poeti. Questo si strugge d'amore per una donnetta, e quanto meno è riamato, tanto più ama senza speranza. Quello sposa la dote e non la donna, quell'altro prostituisce la sposa, mentre un altro ancora, roso dalla gelosia, tiene gli occhi aperti come argo. Quali spettacolari sciocchezze dice e fa qualcuno in circostanze luttuose, arrivando a pagare dei professionisti perché recitino la commedia del compianto. C'è chi piange sulla tomba della matrigna e chi spende tutto ciò che può racimolare per rimpinguarsi il ventre, a rischio magari di ridursi in breve a morire di fame. Qualcuno pone in cima ai suoi pensieri il sonno e l'ozio. C'è chi si prodiga con ogni cura per gli affari degli altri, mentre trascura i propri, e chi, preso nel gioco dei debiti, prossimo a fallire, si crede ricco del denaro altrui. Un altro pone all'apice della sua felicità morire povero pur di arricchire l'erede. Questi, per un guadagno modesto e per giunta incerto, corre tutti i mari affidando la vita che il denaro non ricompra alle onde ai venti. Quello preferisce cercare di arricchirsi in guerra piuttosto che starsene al sicuro in casa sua? Ci sono di quelli che credono si possa arrivare alla ricchezza senza la minima fatica, andando a caccia di vecchi senza eredi né manca chi, in vista dello stesso risultato, opta per un legame con vecchiette danarose. Gli uni e gli altri offrono agli dei che stanno a guardare uno spettacolo oltremodo divertente quando si fanno abbindolare proprio da coloro che vogliono intrappolare. La razza più stolta e abietta è quella dei mercanti che pur trattando la più sordida delle faccende nei modi più sordidi, pur mentendo, spergiurando, rubando, frudando a tutto spiano, si credono da più degli altri perché hanno le dita inanellate d'oro. Ne mancano di adularli certi fraticelli che li ammirano e li chiamano apertamente venerabili senza dubbio perché una piccola parte degli illeciti profitti va da loro. Altrove puoi vedere dei pitagorici a tal segno convinti della comunanza dei beni che, se trovano qualcosa di incustodito, tranquillamente se ne appropriano come l'avessero ricevuto in eredità. C'è chi, ricco solo di speranze, sogna la felicità e già questo sogno per lui è la felicità. Taluni si compiacciono di essere creduti ricchi mentre a casa loro muoiono di fame. Uno si è fretta di lapidare tutto quello che possiede, un altro accumula con mezzi leciti e illeciti. Questo si fa portare candidato perché ambisce a pubbliche cariche, quello è contento di starsene accanto al fuoco e sono tanti quelli che intentano interminabili cause e chi, portatori di opposti interessi, fanno a gara per arricchire il giudice che accorda rinvii e l'avvocato che è in combutta con la parte avversa. Uno ha la mania di rinnovare il mondo, un altro propende per il grandioso. C'è chi senza nessuna ragione d'affari lascia a casa moglie e figlie e se ne va a Gerusalemme, a Roma, a San Giacomo di Compostella. Insomma, se come una volta menippo dalla luna potessimo contemplare dall'alto gli uomini nel loro agitarsi senza fine, crederemmo di vedere uno sciame di mosche e zanzare in contrasto fra loro, intente a combattersi, a tendersi tra anelli, a rapinarsi a vicenda, a scherzare, a giocare nell'atto di nascere, di cadere, di morire. Si stenta a credere che razza di terremoti e di tragedie può provocare un animaletto così piccino e destinato a vita così breve. Infatti, di tanto in tanto un'ondata, anche non grave, di guerra o di pestilenza ne colpisce e ne distrugge migliaia e migliaia. Sarei io stessa un'autentica pazza e meriterei proprio di far ridere Democrito a più non posso se continuassi ad elencare tutte le forme di stolta pazzia proprie del volgo. Mi rivolgerò a quelli che fra i mortali testono l'abito della sapienza e, come si dice, aspirano al famoso ramo d'oro. Fra loro al primo posto stanno i grammatici, che sarebbero per certo la genia più calamitosa, più lugubre e più invisa agli dèi se non ci fossi io a mitigare con una dolce forma di follia i guai di quella infelicissima professione. Su di essi, infatti, non pesano solo le cinque maledizioni di cui parla l'epigramma greco, ma tante tante di più. Sempre affamati, sempre sporchi. Se ne stanno nelle loro scuole, e le ho chiamate scuole, ma avrei dovuto dire luoghi dove si lavora come schiavi e camere di tortura. Fra turbe di ragazzi invecchiano nella fatica, assordati dagli schiamazzi, imputridiscono nel puzzo e nel sudiciume. Tuttavia, per mio beneficio avviene che si ritengano i primi tra gli uomini. Sono così contenti di sé, quando col volto truce e con la voce minacciosa atterriscono la tremebonda folla degli alunni, quando le suonano a quei disgraziati con sperze, verghe, scudisci e in tutti i modi incrudeliscono a loro capriccio a imitazione del famoso asino di Kuma. Intanto per loro, quel sudiciume è la quintessenza del nitore, quel puzzo sa di maggiorana, quell'infelicissima schiavitù è pari a un regno, a tal punto che rifiuterebbero di scambiare la loro tirannide col potere di Falaride o di Dionigi. Ma anche più felici si sentono per non so quale convinzione di essere dei dotti. Mentre ficcano in testa i ragazzi madornali sciocchezze, tuttavia Dio buono di fronte a chi, palemone o donato che sia, non ostentano sprezzante superiorità. E con non so quali trucchi, riescono a meraviglia nell'intento di apparire al re sciocche mammine e ai padri scemi pari all'opinione che hanno di sé. C'è poi un'altra fonte di piacere, quando uno di loro scova in un foglio ammuffito il nome della madre di Anchise, o una paroletta di uso non comune, bubsequa, bobinator, o manticulator, o quando scavando da qualche parte tira fuori un frammento di antico sasso che porta un'iscrizione mutila. Oh Giove, che esplosioni di gioia allora, che trionfi, che elogi, come se avesse messo in ginocchio l'Africa o espugnato Babilonia. E che diremo di quando vanno sbandierando a tutto spiano i loro insulsissimi versiciatoli, che non mancano peraltro di ammiratori. Credono ormai che lo spirito di Virgilio sia penetrato in loro, ma la scena più divertente sia quando si scambiano lodi e complimenti e a vicenda si danno una lisciatina. Se poi uno di loro incappa in un lapsus e un altro più avveduto per caso se ne accorge allora sì per Ercole che ne viene fuori una tragedia a base di polemiche, di litigi e di ingiurie. Possano tutti i grammatici volgersi contro di me semento. Ho conosciuto una volta un tale, dotto in svariati campi, sapeva di greco, di latino, di matematica, di filosofia, di medicina e questo a livello superiore. Ormai sessantenne, messo da parte tutto il resto, da oltre vent'anni si tormenta sulla grammatica ritenendo di poter essere felice se vivrà abbastanza da stabilire con certezza come vadano distinte le otto parti del discorso. Finora nessuno, né dei greci né dei latini ci è riuscito pienamente. Di qui quasi un caso di guerra se uno considera congiunzione o una locuzione avverbiale. A questo modo, pur essendovi tante grammatiche quanti grammatici, anzi di più, se solo il mio amico Aldo Manuzio ne ha pubblicate più di cinque, questo tale non tralascia di leggerne ed esaminarne minuziosamente nessuna, per Barbara o goffa che sia nello stile. Guarda infatti con sospetto chiunque faccia in materia un tentativo sia pur insignificante, attanagliato com'è dalla paura che qualcuno lo privi della gloria, rendendo vane così annose fatiche. Preferite chiamarla follia o stoltezza? A me poco importa, purché siete disposti a riconoscere che per mio beneficio l'animale più infelice di tutti può attingere tale una felicità da non volere scambiare la propria sorte neppure con quella dei re persiani. Meno mi devono i poeti, che pure appartengono apertamente alle mie schiere, libera schiatta come sono, secondo il proverbio, tutti presi dall'impegno di sedurre l'orecchio dei pazzi con autentiche sciocchezze e storielle risibili. Fidando in questi mezzi, mirabile a dirsi, promettono immortalità e divina beatitudine a se stessi e anche agli altri. A costoro, soprattutto, sono legate filautia e colachia, che da nessun'altra stirpe mortale ricevono un culto altrettanto schietto e costante. Quanto ai retori, benché prevarichino un poco con la complicità dei filosofi, fanno parte anche loro della nostra confraternita. Molte cose lo dimostrano, ma una in primo luogo, che a parte le altre sciocchezze, tanto hanno scritto e con tanto impegno a proposito dell'arte di scherzare. E l'autore, chiunque esso sia, della retorica aderegno, annovera la follia tra le varietà di facezie. Quintiliano, poi, che in questo campo è di gran lunga al migliore, ci ha dato sul riso un capitolo più lungo dell'Iliade. Tanto essi valorizzano la follia che spesso, quando sono a corto d'argomenti, cercano una scappatoia nel riso. A meno di negare che sia proprio della follia suscitare ad arte pazze risate, dicendo cose che, appunto, fanno ridere. Nella stessa schiera rientrano quelli che aspirano a fama immortale pubblicando libri. Mi devono tutti moltissimo, ma in particolare coloro che imbrattano i fogli con autentiche sciocchezze, gli eruditi, infatti, che scrivono per pochi dotti e che non rifiuta per giudici né Persio né Lelio. A me non sembrano punto felici, ma piuttosto degni di pietà, perché senza posa si arrobellano a fare giunte, mutamenti, tagli e sostituzioni. Riprendono, li imano, chiedono pareri, lavorano a una cosa anche per nove anni e non sono mai contenti. A così caro prezzo comprano un premio da nulla qual è la lode, e lode di pochissimi per di più. La pagano con tante veglie, con tanto spreco di sonno, il sonno la più dolce delle cose, con tanta fatica, con tanto sacrificio. Aggiungi il danno della salute, la bellezza che se ne va, il calo della vista, o addirittura la cicità, la povertà, l'invidia degli altri, la rinuncia ai piaceri, la senescenza precoce, la morte prematura, e chi più ne ha più ne metta. Il sapiente crede che ne valga la pena, mali sì gravi, in cambio del plauso di uno o due ci sposi. Quanto più felice il delirio dello scrittore mio seguace quando, senza starci punto a pensare, solo col modico spreco di un po' di carta, seguendo l'ispirazione del momento, traduce prontamente in scrittura tutto quanto gli passa per la testa, anche i sogni, sapendo che più sciocche saranno le sciocchezze che scrive e più troverà consenso nella maggioranza, cioè in tutti gli stolti e ignoranti. Che importa il disprezzo di tre dotti, ammesso che le leggano, e che peso può avere il giudizio di così pochi sapienti, se a contrastarlo c'è una folla così sconfinata. Ma ancora più avveduti si rivelano coloro che pubblicano, spacciandoli per propri, gli scritti altrui, e valendosi dell'apparenza trasferiscono sulla propria persona una gloria che è frutto del faticoso impegno d'altri. Fidano su questo che, se anche saranno accusati di plagio, tuttavia per qualche tempo avranno tratto vantaggio dall'inganno. Vale la pena di vedere come sono soddisfatti di sé quando la gente li elogia, quando li segna a dito nella folla. È lui, lo scrittore famoso! Quando i loro libri stanno in mostra in libreria, quando in cima a ogni pagina si leggono quei tre nomi, soprattutto se stranieri e con un sapore di magia. Ma cosa sono poi, buon Dio, se non dei nomi? E quanto pochi saranno a conoscerli? Se si pensa a quante grande il mondo, e meno ancora poi, saranno a lodarli, perché anche gli ignoranti hanno gusti diversi. Che dite degli stessi nomi non di rado fittizi e tratti dai libri degli antichi? Chi si compiace di chiamarsi Telemaco, chi Steleno, chi Laerte, chi Policrate e chi Trasimaco, tanto che ormai potremmo benissimo chiamarli Camaleonte o Zucca, oppure indicare i libri con le lettere dell'alfabeto, secondo l'uso dei filosofi. Eppure, più di tutto, diverte vederli, sciocchi e ignoranti come sono, impegnati a scambiare con altri, sciocchi e ignoranti come loro, lettere e versi elogiativi e encomi. In questi scambi di lodi, chi diventa un alceo e chi un Callimaco, chi è superiore a Cicerone e chi più dotto di Platone. A volte, per accrescere nella gara la loro fama, creano un avversario e il pubblico incerto non sa quale partito prendere, finché ne escono tutti vittoriosi e lasciano il campo da trionfatori. I saggi ridono di queste cose come di solenni sciocchezze e tali sono, chi lo nega. Ma intanto, per merito mio, quelli se la godono e non scambierebbero i loro trionfi neppure con quelli degli scipioni. Gli stessi dotti del resto, mentre ridono divertendosi un mondo e godono della follia altrui, contraggono anch'essi con me un gran debito, né possono negarlo se non son proprio degli ingrati. Fra gli eruditi, il primo posto spetta ai giure consulti e nessuno più di loro è soddisfatto di sé quando, impegnati in una fatica di Sisifo, formulano leggi a migliaia, non importa quale proposito, e aggiungendo glosse a glosse, pareri a pareri, fanno in modo da presentare lo studio del diritto come il più difficile fra tutti. Attribuiscono infatti titolo di nobiltà a tutto ciò che costa fatica. Accanto ai giuristi collochiamo i dialettici e i sopisti, una genia più loquace dei bronzi di Dodona. Uno qualunque di loro potrebbe gareggiare in fatto di chiacchiera con venti donne di prima scelta. Meglio per loro sarebbe se fossero soltanto chiacchieroni e non anche litigiosi al punto di polemizzare con estrema tenacia per questioni di lana caprina e da trascurare spesso nella foga della contesa i diritti della verità. Pieni di sé come sono, godono ugualmente quando armati di tre sillogismi non esitano a attaccare lite con chiunque a qualunque proposito. Del resto la loro pertinacia li rende invincibili anche se il loro avversario è uno stentore. E poi ci sono i filosofi, venerandi per barba e mantello, affermano di essere i soli sapienti, tutti gli altri sono soltanto ombre inquiete. Ma come bello il loro delirio quando costruiscono mondi innumerevoli, quando misurano quasi col pollice il filo il sole, la luna, le stelle, le sfere, quando rendono ragione dei fulmini, dei venti, delle eclissi e degli altri fenomeni inesplicabili senza la minima esitazione, come se fossero a parte dei segreti della natura artefice delle cose, come se venissero a noi dal consiglio degli dèi. La natura intanto si fa le grandi risate su di loro e sulle loro ipotesi. A dimostrare che non la sanno con certezza, basterebbe quel loro polemizzare sulla spiegazione di ogni singolo fenomeno. loro, pur non sapendo nulla, affermano di sapere tutto, non conoscendo se stessi e non accorgendosi a volte della buca o del sasso che hanno sotto il naso, o perché in molti casi ci vedono poco, o perché sono altrove con la testa, sostengono di vedere idee universali, forme separate, materie prime, quiddità e ceità, e cose tanto sottili da sfuggire, credo persino agli occhi di linceo. Disprezzano in particolare il profano volgo, quando confondono le idee agli ignoranti con triangoli, quadrati, circoli e figure geometriche siffatte, disposte le une sulle altre a formare una specie di labirinto e poi, con lettere collocate quasi in ordine di battaglie e variamente manovrate. Ne mancano fra loro quelli che, consultando gli astri, predicono l'avvenire promettendo miracoli che vanno al di là della magia, e beati loro, trovano anche chi ci crede. Quanto ai teologi, forse meglio farei a non parlarne, evitando di suscitare un vespaio e di toccare quest'erba puzzolente, perché, altezzosi e litigiosi come sono, non abbiano ad assalirmi a schiere con centinaia di argomenti, costringendomi a fare ammenda. Se mi rifiutassi, mi accuserebbero senz'altro di eresia, questo essendo il fulmine con cui di solito atterriscono chi non gode le loro simpatie. Eppure, ancorché siano i meno propensi a riconoscere i miei meriti nei loro confronti, anche loro, e di non poco, mi sono debitori. Infatti devono a me quell'alta opinione di sé che li rende felici come se il terzo cielo fosse la loro dimora, e li induce a guardare dall'alto in basso con una sorta di commiserazione tutti gli altri mortali, quasi animali che strisciano a terra, mentre loro, trincerati dietro un valido esercito di magistrali definizioni, conclusioni, corollari, proposizioni esplicite ed implicite, a tal segno abbondano di scappatoie da poter sfuggire anche alle reti di vulcano, con distinzioni che recidono ogni nodo con una facilità che neppure la bipenne di Tenedo possiede, inesauribili nel coniare termini nuovi e parole rare. Spiegano inoltre, a modo loro, gli arcani misteri, i criteri che sono alla base della creazione e dell'ordinamento del mondo, per quali vie la macchia del peccato si è trasmessa di generazione in generazione, in che modo, in che misura, e in quanto tempo Cristo si è formato nel grembo della Vergine, come nelle Eucarestie ci possono essere gli accidenti senza la materia. Ma queste sono cose risapute, altre le questioni che ritengono degne dei teologi grandi e illuminati, così li chiamano. Quando se le trovano di fronte si esaltano. Qual è l'istante della generazione divina? Ci sono più filiazioni in Cristo? È sostenibile la proposizione Dio padre odia al figlio? Avrebbe potuto Dio assumere figura di donna, di demonio, di asino, di zucca, di pietra? In caso affermativo, come la zucca avrebbe potuto predicare, fare miracoli, essere messa in croce? Che cosa avrebbe consacrato Pietro se avesse consacrato mentre Cristo pendeva dalla croce? E poteva Cristo in quel medesimo tempo essere chiamato uomo? Infine, dopo la resurrezione, potremo mangiare e bere? Della fame e della sete infatti costoro si preoccupano fino da ora. Innumerevoli poi le sottigliezze, anche molto più sottili di queste, circa le nozioni, le relazioni, le formalità, le quiddità, le ceità che sfuggirebbero agli occhi di tutti, fatta eccezione di un novello linceo, capace di vedere nelle tenebre più profonde anche le cose che non sono in nessun luogo. Aggiungi sentenze così paradossali che i famosi oracoli stoici, detti appunto paradossi, sembrano al confronto luoghi comuni dei più rozzi e banali. Per esempio, che accomodare una volta la scarpa di un povero nel giorno del Signore è delitto più grave che strangolare mille uomini. Che dire una volta tanto una sola bugia, per quanto piccina, è più grave che lasciare andare in malora il mondo intero con tutta la sua dovizia di cose utili e belle. A rendere ancora più sottili queste sottilissime sottigliezze ci sono le tante vie battute dagli scolastici che usciresti prima dai labirinti che non dalle oscure tortuosità di realisti, nominalisti, tomisti, albertisti, occamisti, scotisti. E non ho nominato tutte le scuole, ma solo le principali. In tutte c'è tanta erudizione, tanta astrusità che, secondo me, persino gli apostoli, se si trovassero a dover discutere con questi teologi di nuovo genere, avrebbero bisogno di un secondo Spirito Santo. Paolo poté dimostrare la sua fede, ma quando dice che la fede è sostanza di cose sperate e argomento delle non parventi, da una definizione manchevole dal punto di vista dottrinale, proprio Paolo, che in modo eccellente, fece professione di carità, ne dette nel capitolo tredicesimo della prima epistola ai Corinzi un'analisi ed una definizione difettose in sede dialettica. Gli apostoli certamente celebravano l'Eucaristia con la dovuta pietà. Non credo, però, che, interrogati sul termine acquo e sul termine ad quem, sulla la tramsustanziazione, sull'ubiquità di un medesimo corpo, sulla differenza tra il corpo di Cristo in cielo, sulla croce e nel sacramento dell'Eucaristia, sull'istante in cui avviene la tramsustanziazione dovuta, com'è, ad una formula composta di più parole distinte e quindi a una quantità discreta in divenire. Non credo, ripeto, non credo, che nel discutere, nel definire, gli apostoli avrebbero raggiunto la sottigliezza degli scotisti. Avevano conosciuto la madre di Gesù, ma chi di loro dimostrò con l'inecepibile metodo filosofico dei nostri teologi come rimase immune dalla macchia del peccato di Adamo? Pietro ha ricevuto le chiavi e le ha ricevute da colui che non le darebbe a un indegno. E tuttavia, non so se avrebbe capito, certo non ne ha mai colto la sottigliezza, la questione del come possa possedere la chiave della scienza anche chi non ha la scienza. Gli apostoli battezzavano in ogni luogo, tuttavia non hanno mai insegnato quale sia la causa formale, materiale, efficiente e finale del battesimo, né mai hanno fatto menzione del suo carattere delebile e indelebile. Gli apostoli adoravano sì Dio, ma in spirito. Attenendosi unicamente al principio evangelico, Dio è spirito e chi lo adora deve adorarlo in spirito e verità. Non pare tuttavia che sia stato ad essi ben chiaro che dobbiamo adorare Cristo allo stesso modo sia in persona che in una sua immagine scrabocchiata col carbone sul muro, purché vi appaia con due dita levate, i capelli lunghi e tre raggi nell'aureola che gli cinge la nuca. Come si possono cogliere queste finezze se prima non ci si è dedicati anima e corpo per almeno 36 anni alla fisica e alla metafisica di Aristotele e di Duns Scoto. Allo stesso modo gli apostoli parlano della grazia, ma non fanno mai distinzione fra grazia gratuita e grazia gratificante. Esortano alle opere buone, ma non distinguono fra opera operante e opera operata. Dappertutto insistono sulla carità, ma non distinguono fra carità infusa e carità acquisita, né spiegano se sia sostanza o accidente, cosa creata o increata. Detestano il peccato, ma possa io morire se sono riusciti a definire cosa sia quello che diciamo peccato. Per questo avrebbero dovuto formarsi alla scuola degli scotisti. L'insegnamento di Paolo può essere preso come punto di riferimento per giudicare tutti gli apostoli. Ebbene, io non potrei mai indurmi a credere che egli avrebbe così spesso condannato le questioni, le discussioni, le genealogie e quelle che chiamava logomachie se fosse stato un esperto nell'argomentare. E sì che le dispute dei suoi tempi erano senz'altro roba da ridere in confronto alle sottigliezze dei nostri maestri, che potrebbero dare punti a crisippo. Anche se poi questi maestri, nella loro grande modestia, quando gli apostoli hanno scritto una cosa in forma disadorna e certo non magistrale, non la condannano, ma ne offrono un'accettabile interpretazione. Quest'onore tributano in parte all'antichità e in parte all'autorità degli apostoli. Del resto sarebbe stata per Ercole una bella ingiustizia a pretendere la conoscenza di cose tanto difficili da chi non ne aveva mai sentito far parola dal maestro. Se però la cosa si verifica in Crisostomo, in Basilio, in Girolamo, ritengono sia sufficiente a notare affermazione respinta. Eppure si tratta di autori che confutarno i pagani, i filosofi, gli ebrei, per loro natura ostinatissimi, lo fecero con la vita e coi miracoli più che con i sillogismi. D'altra parte nessuno dei loro avversari sarebbe stato in grado di capire neppure una delle questioni quodili betali di scoto. Al giorno d'oggi qual mai pagano, qual mai eretico non si darebbe senz'altro per vinto di fronte a tante capillari sottigliezze. Bisognerebbe fosse tanto ignorante da non capirci nulla, o tanto privo di ritegno da scoppiare in sconce risate, o, infine, così esperto in quei medesimi cavilli, da combattere ad armi pari. Un mago di fronte a un mago, o un duello fra due avversari armati entrambi di una spada incantata, tutto si ridurrebbe a tessere e ritessere la tela di Penelope. Secondo me i cristiani darebbero prova di un gran buon senso se, invece delle rozze armate che ormai da un pezzo combattono con esito incerto, inviassero contro i turchi gli escotisti con i loro grandi schiamazzi, gli occamisti così ostinati, gli invitti albertisti e con essi l'intera banda dei sofisti. Assisterebbero, credo, alla più divertente delle battaglie e a una vittoria mai vista prima. Chi, infatti, potrebbe essere tanto freddo da resistere ai loro strali infuocati? Chi tanto torpido da non esserne stimolato? Chi tanto avveduto da non restarne accecato? Ma voi credete che i miei siano tutti scherzi? Posso capirlo. Anche fra i teologi ve ne è di più dotti che tengono a vile queste arguzie teologiche giudicandole futili? Ve ne sono che considerano un sacrilegio esecrando, e il massimo dell'empietà, parlare con linguaggio così volgare di cose tanto misteriose, oggetto d'adorazione più che di spiegazione? Discuterne usando il profano argomentare dei pagani, definirle con tanta presunzione e infangare la maestà della divina teologia con parole e concetti così poveri e addirittura surdidi. Nel frattempo, però, gli altri rimangono pieni di sé, addirittura si battono le mani, e, dediti notte e giorno alle loro piacevolissime cantilene, non trovano neppure un minuto per leggere almeno una volta il Vangelo o le lettere di San Paolo. E mentre nelle scuole vanno propinando ai discepoli simili sciocchezze, credono di essere loro a salvare da certa rovina la Chiesa universale, sostenendola con la forza dei loro sillogismi come il mitico Atlante sosteneva con le spalle il mondo? E vi pare poco gratificante por mano ai misteri delle scritture, plasmandole a piacere, ora in questa, ora in quella guisa, come fossero cera? Esigere che le proprie conclusioni, già accettate da un certo numero di scolastici, siano ritenute più importanti delle leggi di Solone e addirittura ad anteporre ai decreti dei pontefici. Se poi qualcosa non coincide a Capello con le loro conclusioni esplicite e implicite, come fossero i censori del mondo, ne impongono la ritrattazione e, come se parlasse l'oracolo, sentenziano proposizione scandalosa, proposizione irriverente, questa odora di eresia, questa suona male. Per fare un cristiano non basta più il battesimo, né il Vangelo, né Pietro, né Paolo, né San Girolamo, né Sant'Agostino, addirittura non basta neppure Tommaso, il principe degli aristotelici. Ci vuole anche il voto di questi baccellieri, così sottili nel giudicare. Chi, infatti, senza l'insegnamento di questi sapienti, si sarebbe mai accorto che non era cristiano chi riteneva ugualmente corrette queste due proposizioni, vaso da notte tu puzzi e il vaso da notte puzza, oppure bolle la pentola e la pentola bolle. Chi avrebbe liberato la Chiesa da così gravi errori di cui nessuno si sarebbe mai accorto se quest'oro non li avessero denunciati col sigillo della loro alta autorità? E non saranno al colmo della gioia mentre fanno tutto ciò? O quando ritraggono con molta esattezza al mondo infernale, come se per molti anni fossero stati cittadini di quella repubblica? O quando fabbricano a capriccio nuove sfere celesti, creandone infine una più grande di tutte, più bella, perché le anime beate abbiano agio di passeggiarvi, di banchettare e anche di giocare a palla? A tal segno, la loro testa è infarcita di una miriade di sciocchezze del genere che, secondo me, nemmeno quella di Giove era così gonfia quando, sul punto di partorire Minerva, chiese a Vulcano di tirare un bel colpo di scure. Perciò non vi stupite quando nelle pubbliche dispute li vedete con la testa così accuratamente imberrettata? Se no scoppierebbe. A volte anch'io rido del fatto che, quanto più il loro linguaggio è barbaro e rozzo, tanto più si credono grandi teologi e, in quel balbettare, comprensibile solo da un altro balbuziente, loro chiamano finezza di ingegno quello che la gente non capisce. Negano infatti che sia compatibile con la dignità delle sacre lettere sottomettersi alle leggi della grammatica. Mirabile maestà, in vero, quella dei teologi. Si è a loro soli è lecito costellare di spropositi il discorso, anche se poi hanno in comune questo privilegio con molti ignoranti. Infine, si ritengono ormai vicinissimi agli dèi quando vengono salutati con venerazione quasi religiosa e chiamati maestri nostri. Credono presente in quell'appellativo qualcosa di simile al tetragramma degli ebrei. Perciò considerano un'impietà non scrivere Magister Noster tutto in lettere maiuscole. Se poi qualcuno invertendo dicesse Noster Magister di colpo annullerebbe la maestà del nome teologico. Quasi altrettanto felici sono quelli che comunemente si fanno chiamare religiosi e monaci usando in entrambi i casi denominazioni quanto mai false. Per buona parte infatti sono mille miglia lontani dalla religione e nessuno si incontra in giro più di questi pretesi solitari. Non vedo che cosa potrebbe esserci di più miserando di loro se non ci fossi io a soccorrerli in tanti modi perché pur essendo questa genia a tal segno detestata da tutti che persino un incontro casuale con qualcuno di loro e ritenuto di malaugurio si cullano tuttavia nell'illusione di essere chissà che cosa. In primo luogo ritengono che il massimo della pietà consista nell'essere tanto ignoranti da non saper neppure leggere. Poi quando con la loro voce asinina arraiano i loro salmi di cui sono in grado di indicare a memoria il numero d'ordine senza peraltro capirli sono convinti da carezzare in modo dolcissimo le orecchie degli dèi. Neppure mancano quelli che vendono a caro prezzo il loro sudiciume e l'andare in giro mendicando. Dinanzi alle porte chiedono il pane e mettendo mugiti lamentosi non c'è albergo non veicolo o nave in cui non portino scompiglio con un piccolo danno degli altri mendicanti. Così queste carissime persone dicono di darci un'immagine degli apostoli con la loro sporcizia, ignoranza, rozzezza, impudenza. E cosa c'è di più divertente del loro fare tutto secondo una regola quasi in base a un calcolo matematico che sarebbe delittuoso violare? Quanti nodi deve avere il sandalo? Di che colore deve essere il cordone? Quale il modello della veste? Di cosa deve essere fatta? E di quale larghezza la cintura? Di che tipo e di che capacità al cappuccio? Quale la precisa misura della chierica? Quante ore vanno concesse al sonno? Eppure quanta diversità chi non lo vede in questa uguaglianza imposta a corpi e temperamenti così vari? Tuttavia per queste sciocchezzuole non solo si considerano superiori agli altri ma anche fra di loro si disprezzano a vicenda e pur professando la carità apostolica fanno un'autentica tragedia di una cintura diversa o di un colore un po' più scuro. Ne potresti vedere di così rigidamente attaccati alla regola da portare esclusivamente vesti di lana di cilicia e biancheria di lino di mileto. Altri al contrario portano vesti di lino e biancheria di lana. C'è chi odiando toccare il danaro come fosse veleno non si astiene comunque né dal vino né dalle donne. Infine mirabile in tutti la cura di non avere nulla in comune quanto a regola di vita è questo non nell'intento di guardare a Cristo ma per distinguersi tra di loro. Buona parte della loro soddisfazione deriva dai nomi gli uni si compiacciano del nome di cordiglieri distinti in coletani minori minimi bollisti altri godono del nome di benedettini o di bernardini questi di brigidenzi quelli di agostiniani gli uni tengono alla denominazione di guglielmiti altri di giacobiti come se chiamarsi cristiani fosse troppo poco. Gran parte di quest'oro a tal punto d'appeso alle proprie cerimonie e a minute tradizioni umane da ritenere che un solo cielo non sia premio adeguato a meriti così grandi e non pensano che Cristo non facendo alcun conto del resto chiederà loro se hanno osservato il suo unico precetto la carità. Allora uno esibirà al pancione gonfio di pesci di ogni specie un altro rovescerà al suo cospetto centinaia di moggi di salmi un altro ancora farà il conto degli infiniti digiuni se poi tante volte è rischiato di scoppiare è stato per quell'unico pasto che si concedeva dopo. Altri ancora mostrerà il mucchio delle cerimonie a cui ha partecipato tanto greve che a malapena potrebbero trasportarlo sette navi da carico. Qualcuno si vanterà di aver oltrepassato i 60 anni senza toccare denaro se non con le mani protette da due paia di guanti. Chi produrrà la cocolla tanto sporca e grassa che neanche un marinaio se ne gioverebbe. Chi ricorderà di aver fatto per più di 11 anni la vita dell'ostrica sempre attaccato allo stesso luogo e chi si farà un merito della voce di Venuta Rauca per l'ininterrotto cantare o del rimbecillimento derivato dalla vita solitaria. Altri ancora della lingua resa torpida dal voto del silenzio. Ma Cristo interrompendo queste vanterie che altrimenti rischierebbero di non finire più di dove viene dirà questa nuova schiatta di giudei. Riconosco per mia una legge sola e solo di questa non si fa parola. Pure una volta con aperto linguaggio e non in forma di parabola ho promesso l'eredità del padre mio non alle cocolle, non alle giaculatorie e dai digiuni, ma alle opere di carità. Non conosco questa gente che esalta continuamente i propri meriti dato che, vorrebbero sembrare anche più santi di me, occupino se vogliono i cieli dei seguaci di Abraxas o si facciano edificare un nuovo cielo da coloro le cui meschine tradizioni anteposero ai miei precetti. Quando sentiranno queste parole e si vedranno preferire marinai e aurighi, con che faccia credete che si guarderanno a vicenda? Nel frattempo si beano della loro speranza e non senza mio merito, e poi, benché lontani dalla vita pubblica, nessuno osa disprezzarli, i mendicanti in particolare, perché attraverso la cosiddetta confessione conoscono senza eccezione i segreti di tutti. Rivelarli tuttavia secondo loro è peccato, salvo dopo una bevuta quando vogliono dilettarsi di qualche racconto più divertente, ma anche allora raccontano i fatti solo in via ipotetica, senza far nomi. Se però qualcuno irrita questi calabroni, predicando al popolo, se ne vendicano a misura di carbone, e bollano il nemico con allusioni tanto scoperte da essere capite da tutti, salvo da chi non capisce proprio nulla, né la smettono di latrare se prima non gli hai gettato il boccone in bocca. Eppure quale commediante, quale ciarlatano andresti a vedere a preferenza di costoro, quando nella predica s'esibiscono intirate retoriche che, pur nella loro assoluta ridicolaggine, s'attengono nel modo più spassoso alle norme sull'arte del dire tramandate dai maestri. Dio immortale, come gesticolano, e come cambiano voce, e come canterellano, come si spenzolano verso l'uditorio, e come mutano espressione, come punteggiano tutto con urla! Quest'arte oratoria viene trasmessa come un segreto da un fraticello all'altro. Sebbene non mi sia concesso di venirne a conoscenza, tenterò comunque di procedere per congetture. Scimmiottando i poeti, cominciano con un'invocazione, poi, se devono parlare e poniamo della carità, prendono le mosse dal Nilo fiume d'Egitto. Se invece devono trattare del mistero della croce, prendono opportunamente gli auspici da Bel, drago di Babilonia. Se si preparano a predicare sul digiuno, si rifanno ai dodici segni dello zodiaco e, se l'oggetto del loro discorso è la fede, premettono una lunga introduzione sulla quadratura del cerchio. Ho sentito con le mie orecchie un esimio stupido, scusate, volevo dire dotto, che, in una predica famosissima, dovendo spiegare il mistero della Trinità, volendo fare cosa che suonasse gradita all'orecchio dei teologi e mettere al tempo stesso in mostra la sua non comune dottrina, si dette a battere una strada affatto nuova. Partì dalle lettere dell'alfabeto, dalle sillabe, dal discorso, dalla concordanza del nome col verbo e dell'aggettivo col sostantivo, tra la meraviglia dei più, anche se non mancava qualcuno che borbottava tra sé le parole d'Orazio. Ma a cosa prodano queste scemenze? Finalmente arrivò al punto di dimostrare che l'immagine di tutta la Trinità scaturisce dai rudimenti grammaticali in modo tale che nessun matematico potrebbe disegnarla con più evidenza nella polvere. E nel comporre quest'orazione, quel teologo principe per otto mesi interi aveva faticato tanto, che anche oggi è più cieco di una talpa, senza dubbio per aver consumato tutta la forza degli occhi nella suprema tensione della mente. Eppure non si lamenta della cecità, crede anzi di aver raggiunto il successo con poca spesa. Ho ascoltato un altro ottoagenario, un teologo di tale statura che lo avresti detto duns scoto redivivo, dovendo spiegare il mistero del nome di Gesù con mirabile sottigliezza dimostrò che tutto quanto se ne poteva dire era nascosto nelle lettere stesse che lo componevano, perché il fatto che la sua declinazione abbia tre casi soli è segno manifesto della Divina Trinità. Il mistero ineffabile poi sta nel fatto che il primo caso, Iesus, termina in S, il secondo Iesum in M, il terzo Iesu in U. Quelle tre lettere significano che è sommo, medio e ultimo. Restava un mistero anche più ostico da risolversi col calcolo matematico. Divise la parola Iesus in due parti uguali in modo che una lettera in mezzo restasse divise in due. Disse che quella lettera per gli ebrei è Sin, che in lingua scozzese, credo voglia dire peccato, da qui risulta manifesto che Gesù è colui che redime il mondo dai peccati. Per l'originalità dell'esordio tutti rimasero a bocca aperta, i teologi in particolare, sì che per poco non toccò loro la sorte di Niobe, mentre a me quasi successe come al priapo di legno di Fico che, con suo grave danno, si trovò ad assistere ai riti notturni di Canidia e di Sagana, e non ha torto. Infatti, quando mai il greco De Mostene o il latino Cicerone sono andati a discogitare un simile esordio? Essi ritenevano difettoso un proemio che troppo si scostasse dal tema, neanche i bifolchi che hanno la natura per guida esordiscono così. Ma questi dotti ritengono che il loro preambolo, così lo chiamano, raggiunga il massimo della potenza retorica quando proprio non ha nulla a che fare col resto del discorso, tanto che chi ascolta meravigliato finisce col dire tra sé, ma dove si va a finire? In terzo luogo, commentano tirandone fuori un raccontino o qualche breve passo del Vangelo, ma frettolosamente e quasi incidentalmente, mentre questo solo era il punto da sviluppare. In quarto luogo, cambiando parte in commedia, sollevano un problema teologale che talvolta non sta né in cielo né in terra. Anche questo ritengono conforme alle regole dell'arte, qui finalmente assumono piglio teologico, riempiendo gli orecchie degli ascoltatori di famosi nomi di dottori solenni, dottori sottili, dottori sottilissimi, dottori serafici, dottori santi, dottori irrefragabili. Allora sbandierano davanti ad una folla ignorante sillogismi maggiori, minori, conclusioni, corollari, supposizioni e altre sciocchezze prive di mordente e decisamente scolastiche. Resta ormai il quinto atto, in cui l'artista deve rivelarsi in tutta la sua bravura. A questo punto, tirano in ballo una qualche ruzza e sciocca storiella, tolta penso dallo speculi mistoriale, o dei gesta romanorum, e ne offrono un'interpretazione allegorica, tropologica e anagogica. Così portano a compimento la loro chimera, qualcosa che neppure Orazio riusciva a immaginare quando scriveva aggiungete ad una testa d'uomo eccetera. Da non so chi, hanno poi sentito dire che l'inizio dell'orazione deve essere basso di tono, perciò cominciano con una voce così bassa, che neanche loro la sentono come se il parlare servisse quando nessuno capisce. Hanno anche imparato che a volte, per suscitare emozioni è opportuno e rompere in un grido, perciò, a metà di un discorso concitato, all'improvviso si mettono a strillare furiosamente senza il minimo bisogno. Quegli scoppi di voce che nulla giustifica ti farebbero giurare di trovarti davanti a casi da trattare con l'elleboro. Inoltre, avendo appreso che il discorso deve animarsi via via che procede, quando bene o male hanno esaurito l'inizio delle singole parti, a un tratto adottano un tono appassionato, anche se l'argomento è dei meno interessanti, e finiscono col concludere dando l'impressione di essere esausti. Avendo infine imparato che i retori parlano del ridere, anche loro si sforzano di introdurre qualche battuta scherzosa con una tale grazia per venere, con un tale senso d'opportunità da farti dire che sono come l'asino davanti alla lira. Talvolta mordono anche, ma in modo da provocare più solletico che ferite, ne riescono mai ad adulare meglio di quando fanno mostra di non aver peli sulla lingua. Infine tutto il loro stile è tale da farti giurare che abbiano avuto per maestri i ciarlatani di piazza, restandone però molto al di sotto. Tuttavia, si rassomigliano tanto da non lasciare dubbi. O i ciarlatani hanno imparato la retorica dagli oratori, o gli oratori dai ciarlatani. Non di meno, certo per opera mia, trovano chi, ascoltandoli, crede di trovarsi davanti a Demostene o a Cicerone in persona. Appartengono a questo genere di uditorio soprattutto i mercanti e le donnette, le sole persone a cui si curano di parlare in modo gradito perché i mercanti, opportunamente lisciati, sono inclini di solito ad elargire una piccola parte del maltolto, mentre le donnette, oltre che per molte altre ragioni, sono ben disposte verso la categoria soprattutto perché il loro costume è attingerne conforto quando vogliono sfogare i propri malumori coniugali. Vi rendete conto, suppongo, di quel che mi deve questa specie di uomini che esercitando tra i mortali e una sorta di tirannia attraverso cerimonie da burla, ridicole sciocchezze e urla scomposte, si credono dei nuovi San Paolo e Sant'Antonio. Non mi par vero di concludere, oramai ne ho abbastanza di questi strioni tanto ingrati nel nascondere ciò che mi devono quanto empi nell'ostentare una finta pietà religiosa. E' giunto il tempo di trattare un po', con tutta schiettezza, dei re e dei principi di corte che, come si conviene a uomini liberi, mi onorano con la massima sincerità. Se infatti avessero solo una briciola di senno, che vi sarebbe di più malinconico o di meno desiderabile della loro vita, ne riterrà che, valga la pena di impadronirsi del potere con lo spergiuro o col parricidio, chiunque consideri l'entità del peso che grava sulle spalle di chi vuole essere un principe sul serio. Chi assume il potere supremo deve occuparsi degli affari pubblici e non dei propri interessi. Deve pensare esclusivamente alla pubblica utilità, non deve scostarsi neanche di un pollice dalle leggi di cui è autore ed esecutore. Deve assicurarsi dell'integrità di tutti i funzionari e di tutti i magistrati. Lui solo, agli occhi di tutti, può, a guisa di astro benefico, giovare enormemente alle cose di qua giù, con i suoi costumi senza macchia, oppure, come letale cometa, trarle all'estrema rovina. I vizi degli altri non sono altrettanto conosciuti e non si propagano tanto, ma se il principe, con la posizione che occupa, si scosta appena dalla retta via, subito la corruzione si diffonde contaminando moltissimi uomini. Inoltre, poiché la condizione del principe porta con sé parecchie cose che di solito inducono a tralignare piaceri, libertà, adulazione, lusso, tanto più attentamente egli deve stare in guardia se non vuol venir meno al proprio compito. Infine, per non parlare di insidie, odi e altri pericoli o timori, gli sta sopra la testa quel vero re che, quanto prima gli chiederà ragione, anche della colpa più lieve e tanto più severamente quanto più prestigioso fu il suo imperio. Se il principe riflettesse su queste cose e su moltissime altre del genere, e ci rifletterebbe se avesse senno, non dormirebbe, credo, sonni tranquilli, né riuscirebbe a gustare il cibo. Col mio aiuto, i principi lasciano ora tutti questi motivi d'affanno nelle mani degli dèi e se la spassano porgendo orecchio solo a chi sa dire cose gradevoli, perché una punta d'ansia non abbia mai a levarsi dal fondo del cuore. Ritengono d'aver compiuto in ogni suo aspetto il dovere di un principe se vanno sempre a caccia, se allevano bei cavalli, se mettono in vendita per trarne un utile magistrature e prefetture, se ogni giorno escogitano nuovi stratagemmi per alleggerire i cittadini delle loro sostanze, facendole confluire nel loro tesoro privato, ma trovando dei pretesti, tanto da conferire una qualche apparenza di giustizia anche alla peggiore iniquità. E per conquistare comunque le simpatie popolari aggiungono qualche parola di adulazione. Dovete immaginare un uomo, come se ne vedono a volte, ignaro delle leggi, quasi nemico del pubblico bene, tutto preso dai suoi interessi privati, dedito ai piaceri, con un'autentica avversione per la cultura, la libertà e la verità, che non si cura minimamente della salvezza dello Stato, che adotta come unità di misura le proprie voglie e il proprio tornaconto. Mettetegli al collo una collana d'oro, simbolo della presenza in lui di tutte le virtù riunite, mettetegli in testa una corona ornata di gemme, che lo richiami al suo dovere di superare gli altri in tutte le virtù eroiche, dategli lo scettro, che simboleggia la giustizia e la cristallina purezza dell'animo, e infine la porpora, a significare il suo straordinario amore per lo Stato. Se un principe paragonasse questi ornamenti simbolici col suo genere di vita, credo che finirebbe col provare solo vergogna della sua pompa e col temere che qualche critico salace non si prendesse gioco di lui volgendo in beffa questo apparato scenico. Che dirò dei cortigiani più segnalati? Ben che nulla vi sia di più strisciante, di più servile, di più sciocco, di più spreggevole di loro, vogliono tuttavia essere ovunque al primo posto, in una cosa sola sono modesti all'estremo, paghi di portarsi addosso oro, gemme, porpora ed altre insegne della virtù e della sapienza lasciano sempre agli altri il privilegio di praticarle. Si ritengono molto fortunati perché possono chiamare mio signore il re, perché hanno imparato un saluto di tre parole, perché sanno intercalare titoli onorifici, serenità, maestà, magnificenza, perché sono abilissimi nel deporre ogni pudore quando si tratta di ricorrere a complimenti adulatori. queste infatti sono le arti di un vero nobile, di un vero uomo di corte. Del resto, se vai a guardare più da vicino il loro costume di vita, troverai degli autentici feaci, dei pretendenti di Penelope, il resto del verso lo conoscete, e l'eco ve lo ripete meglio di me. Dormono fino a mezzogiorno, mentre un pretonzolo stipendiato aspetta accanto al letto per celebrare la missa alla svelta quando ancora sonnicchiano. Poi la colazione, e a malapena terminata è già ora di pranzo. Dopo pranzo, i dati, gli scacchi, le lotterie, i buffoni, i parassiti, le cortigiane, i giochi, le insulsaggini. Nel frattempo un alternarsi di merende. Di nuovo a tavola, si cena, a questa seguono i brindisi, non uno solo per Giove. E così, senza ombra di noia, passano le ore, i giorni, i mesi, gli anni, i secoli. Io stessa a volte mi allontano col voltastomaco quando li vedo quei magnanimi in mezzo alle donne, ognuna delle quali si crede tanto più vicina all'olima, quanto più lunga alla coda, mentre i grandi fanno aggomitate per mostrarsi più vicini a Giove. E ognuno, tanto più è beato quanto più pesante ha la catena al collo, segno manifesto non solo di ricchezza, ma anche di robustezza. Già da un tempo, i sommi pontifici, i cardinali e i vescovi hanno preso con impegno a modello il genere di vita dei principi e con successo forse maggiore. Certo, se uno riflettesse sul significato della veste di lino splendida di Niveo Candore, simbolo di una vita senza macchia, e pensasse a quello della mitra a due punte riunite in un solo nodo a indicare una perfetta conoscenza del Vecchio e del Nuovo Testamento, o delle mani coperte dai guanti, segno della purezza, immune da ogni umano cedimento con cui vengono somministrati i sacramenti, se si chiedesse che vuol dire il pastorale, simbolo della cura estrema con cui si veglia sul proprio gregge, che cosa la croce che precede indicando la vittoria su tutte le umane passioni. Se, dico, uno riflettesse a queste cose e a molte altre del genere, che vita sarebbe la sua piena di malinconia e di affanni, bene, fanno quelli che pensano soltanto ad ingozzarsi e la cura del gregge o la rimettono a Cristo medesimo o la scaricano su coloro che chiamano fratelli o vicari. Del significato del loro nome di Vescovi neppure si ricordano Vescovo vuol dire fatica, preoccupazione, sollecita, premura. Vescovi sono sul serio nell'arraffare quattrini, in questo la loro vigilanza è tutta a occhi. Altrettanto dicasi dei cardinali che dovrebbero ricordarsi che sono i successori degli apostoli e che da loro si esigono le stesse opere, non padroni ma amministratori dei beni spirituali di cui tra breve dovranno rendere conto con la massima precisione. Riflettessero un po' anche al loro paludamento e si chiedessero che significa il candore della cotta se non estrema e rara purezza di vita. Che cosa la porpora che la cotta ricopre se non ardentissimo amore di Dio? Che cosa l'ampio mantello che con le sue pieghe fluenti ricopre tutta la cavalcatura di sua eminenza e che basterebbe a coprire anche un cammello? Non significa forse la carità che ovunque si diffonde per venire in aiuto a tutti cioè per insegnare esortare consolare rimproverare ammonire risolvere i conflitti e per opporsi ai principi malvagi? Non significa il generoso sacrificio non solo delle proprie ricchezze ma anche del proprio sangue per amore del grege? A che scopo le ricchezze se i cardinali fanno le veci degli apostoli che erano poveri? se riflettessero su queste cose dico terrebbero poco alla carica deporla sarebbe un piacere oppure si sobarcherebbero una vita tutta presa da cure travagliate alla maniera degli antichi apostoli ora è la volta dei sommi pontifici che fanno le veci di Cristo nessuno più di loro si troverebbe a soffrire se tentassero di imitarne la vita povertà travagli dottrina croce disprezzo del mondo se pensassero al loro nome papa cioè padre e alla loro qualifica di santissimo chi mai spenderebbe tanto per comprarsi quel posto da difendere poi con la spada col veleno con tutte le forze a quanti vantaggi dovrebbero dire addio se la saggezza riuscisse appena a farsi sentire ma che dico saggezza dovrei dire un grano di quel sale menzionato da Cristo addio a tante ricchezze a tanti onori e a tanto potere a tante vittorie a tante cariche a tante dispense a tante imposte a tante indulgenze e a tanti cavalli muli servi e piaceri guardate un po' che mercato che razza di messe rigogliosa che mare di ricchezze o concentrato in poche parole al loro posto veglie digiuni lacrime preghiere prediche studio sospiri e mille gravose occupazioni del genere ancora particolare non trascurabile sarebbero ridotti alla fame tanti scrivani copisti notai avvocati promotori segretari mulattieri palafrenieri banchieri ruffiani e stavo per aggiungere un'espressione più sguaiata ma temo che offenda l'orecchio insomma una così folta schiera che costituisce l'onere e un lapsus volevo dire l'onore della curia romana sarebbe proprio inumano anzi un delitto abominevole ma sarebbe molto peggio riportare al bastone e alla bisaccia quei sommi principi della chiesa che sono la vera luce del mondo ora se fatiche ci sono si lasciano a pietro e a paolo che di tempo libero ne hanno tanto e si mantengono per sé la gloria e il piacere quando ci sono così col mio aiuto non c'è quasi nessuno che più di loro faccia in perfetta tranquillità una gran bella vita convinti di aver assolto in pieno i doveri verso cristo se adempiono alla loro funzione di vescovi con un apparato rituale che ha movenza da palcoscenico con cerimoniali e profusione di titoli beatitudine reverenza santità e benedizioni e anatemi non si usa più far miracoli roba d'altri tempi insegnare ai fedeli è faticoso interpretare le sacre scritture è lavoro da farsi a scuola pregare è una perdita di tempo spargere lacrime misero e femmineo vivere in povertà e spregevole turpe la sconfitta e indegna di chi a mala pena ammette il re al bacio dei suoi piedi beati infine spiacevole la morte e infamante la morte sulla croce rimangono solo le armi e le dolci benedizioni di cui parla San Paolo e di cui fanno uso con tanta larghezza interdetti sospensioni condanne aggravate anatemi esposizione di ritratti a titolo di vergogna e quella tremenda folgore con cui a un cenno del capo mandano le anime dei mortali all'inferno e oltre di quella folgore i santissimi padri in Cristo e di Cristo vicari si servono col massimo della violenza soprattutto contro coloro che per diabolico impulso tentano di rimpicciolire e rosicchiare il patrimonio di Pietro benché le parole dell'Apostolo nel Vangelo siano abbiamo abbandonato tutto e ti abbiamo seguito essi identificano il patrimonio di Pietro con i campi le città i tributi i dazzi il potere e mentre accesi dall'amore di Cristo combattono per queste cose col ferro e col fuoco non senza grandissimo spargimento di sangue cristiano credono di difendere apostolicamente la Chiesa sposa di Cristo annientando da valorosi quelli che chiamano i nemici come se la Chiesa avesse nemici peggiori dei pontifici empi di Cristo non fanno parola fosse per loro svanirebbe nell'oblio legiferando all'insegna dell'avidità lo mettono in catene con le loro interpretazioni forzate ne alterano l'insegnamento coi loro turpi costumi lo uccidono poiché la Chiesa cristiana è stata fondata rafforzata e ingrandita col sangue ora come se Cristo fosse morto lasciando i fedeli senza una protezione conforme alla sua legge governano con la spada eppure essendo la guerra una cosa tanto crudele da convenire alle belve più che agli uomini tanto pazza che anche i poeti hanno immaginato fossero le furie a scatenarla così rovinosa da portare con sé la totale corruzione dei costumi tanto ingiusta da offrire ai peggiori predoni la migliore occasione di affermarsi tanto empia da non avere nulla in comune con Cristo tuttavia trascurando tutto il resto fanno solo la guerra si possono vedere vecchi decrepiti che inalberando un vigoroso spirito giovanile non si sgomentano davanti alle spese non cedono alle fatiche non indietreggiano di un pollice se si trovano a mettere a soquadro le leggi la religione la pace l'intero genere umano ne mancano colti adulatori pronti a chiamare questa evidente follia a zelo pietà fortezza e scogitando stratagemmi che permettono di impugnare il ferro mortale ed immergerlo nelle viscere del fratello senza venir meno a quella suprema carità che secondo il dettato di Cristo un cristiano deve al suo prossimo una cosa continuo a chiedermi certi vescovi tedeschi che andando più per le spicce tralasciando il culto le benedizioni e altre cerimonie del genere si comportano addirittura da satrapi fino a considerare una specie di debolezza e senz'altro una vergogna per un vescovo rendere la valorosa anima a Dio altrove che su un campo di battaglia sono stati loro a offrire il modello di un tale comportamento o lo hanno a loro volta imitato ma ormai la massa dei sacerdoti considerando peccaminoso venire meno alla santità di vita dei presuli levando il grido di guerra si dà a combattere per le dovute decime con spade frecce sassi e armi di ogni specie e quale accortezza nel tirare fuori da vecchi documenti qualcosa con cui impaurire il popolino e convincerlo che il suo debito va al di là delle decime né intanto ai sacerdoti vengono in mente in molti passi ovunque ricorrenti sui doveri che per parte loro essi hanno verso il popolo nemmeno la tonsura basta come monito hanno dimenticato che il sacerdote libero da tutti gli appetiti del mondo deve pensare soltanto alle cose del cielo sono gente buffa sostengono di aver fatto tutto il loro dovere quando hanno borbottato alla bella meglio le solite giaculatorie e io per Ercole mi meraviglio che un qualche dio le ascolti o le intenda perché nemmeno loro sono capaci di udirle o di intenderle pur gridandole con quanto fiato hanno in corpo c'è un punto però che i sacerdoti hanno in comune coi laici entrambi attentissimi ad accumulare guadagni sono sempre al corrente delle vie da seguire se poi c'è un peso da portare prudentemente e lo scaricano sulle spalle altrui e lo fanno passare di mano in mano in una sorta di gioco a palla come i principi laici delegano a vicari settore per settore le funzioni di governo e il vicario a sua volta ricorre a un vicario in sottordine così per modestia lasciano al popolo la cura di tutto quanto riguarda la religione il popolo la scarica su quelli che chiama ecclesiastici come se per parte sua non avesse nulla a che fare con la chiesa pare che i voti pronunciati al battesimo non continuo nulla a loro volta i sacerdoti che si denominano secolari come se appartenessero al mondo più che a Cristo scaricano il fardello sul clero regolare il clero regolare sui monaci i monaci di meno stretta osservanza su quelli di osservanza più rigida gli uni e gli altri sui mendicanti e i mendicanti sui certosini i soli presso cui sepolta si nasconde la pietà ma così nascosta chiama la pena si può scorgerla così fanno anche i pontefici diligentissimi nel rastrellare soldi affidano ai vescovi i gradami più strettamente apostolici i vescovi li affidano ai parroci i parroci ai vicari i vicari ai frati mendicanti che a loro volta li rimandano a coloro che tosano la lana delle pecore ma io qui non mi propongo di passare in rassegna i costumi di pontefici e sacerdoti non vorrei avere l'aria di comporre una satira mentre è il mio elogio che pronuncio né vorrei si credesse che mentre elogio i cattivi principi io biasimi i buoni ho parlato brevemente di queste cose per mettere in chiaro che nessuno al mondo può vivere felicemente se non è iniziato ai miei misteri e se non a me dalla sua come mai infatti la stessa dea di Ramnunte signora delle umane sorti a tal punto va d'accordo con me da aver giurato eterna inemicizia a questi sapienti mentre ai folli ha donato ogni bene anche nel sonno voi conoscete il famoso Timoteo che di cui ha preso anche il soprannome ed il proverbio anche dormendo piglia pesci c'è anche l'altro detto la civetta vola per lui invece altri sono i proverbi che si adattano ai sapienti nato sotto cattiva stella al cavallo di seio e l'oro di tolosa smetto le citazioni non vorrei aver l'aria di saccheggiare la raccolta del mio erasmo per tornare in argomento la fortuna ama gli imprudenti gli audaci quelli che adottano il motto il dado e tratto la saggezza invece rende piuttosto timidi perciò comunemente vedete questi sapienti impegnati a combattere con la povertà la fame il fumo li vedete vivere dimenticati senza prestigio senza simpatie mentre gli stolti ben forniti di soldi raggiungono le alte cariche dello stato e per dirla in breve prosperano in tutti i sensi infatti se si ripone la felicità nel favore dei principi nell'entrare a far parte della cerchia di questi miei fedeli simili a dei ingioiellati che c'è di più inutile della sapienza anzi di più aburrito presso gente del genere se si vuole arricchire che cosa può guadagnare un mercante attenendosi alla sapienza se terrà in qualche conto gli scrupoli dei sapienti sull'atrocinio e l'usura avrà ripugnanza a spergiurare colto a mentire arrossirà se si desiderano onori o benefici ecclesiastici un asino o un bue potrà giudicarseli prima del sapiente se è il piacere che ti muove le fanciulle che in questa storia hanno il posto d'onore si danno di tutto cuore agli stolti mentre hanno orrore del sapiente e lo fuggono come fosse uno scorpione infine chiunque si ripromette una vita in qualche misura lieta comincia con l'escludere il sapiente tollerando piuttosto o qualunque altro animale in breve da qualunque parte tu ti volga presso pontefici principi giudici magistrati amici nemici grandi e piccoli tutto si ottiene col denaro alla mano ma il sapiente disprezza il denaro e perciò di solito da lui ci si tiene lontani con la massima cura ed ora benché sia impossibile esaurire il mio elogio bisogna pur concludere il discorso perciò smetterò di parlare ma non senza aver prima dimostrato in poche parole che non sono mancate grandi autorità a glorificarmi sia con gli scritti che con le azioni e questo perché qualcuno non sospetti scioccamente che sia io sola a compiacermi di me stessa e perché i legulei non mi accusino di non produrre documenti perciò prendendo esempio da loro allegherò le prove senza preoccuparmi che siano pertinenti in primo luogo tutti sono persuasi della verità di un notissimo proverbio quando una cosa manca ottimo sistema è fingere che ci sia perciò è bene cominciare con l'insegnare ai ragazzi questo verso fingersi folli a tempo e luogo e somma sapienza potete rendervi conto da voi di quale grandono sia la follia anche se la sua ombra fallace e la sua sola imitazione meritano dai dotti così grande lode con franchezza anche maggiore quel famoso porco lucido e pingue del greggio di epicuro prescrive di mescolare la follia alla saggezza ma aggiunge solo per poco e qui si sbaglia dice altrove bella cosa folleggiare a tempo e luogo e ancora in altra occasione preferisce apparire pazzo e privo di iniziativa piuttosto che mostrarsi assennato tenendosi la rabbia in corpo già in numero telemaco che il poeta loda sotto tutti i rapporti è detto a più riprese privo di senno e spesso e volentieri i tragici indicano in tal modo quasi fosse di buon augurio fanciulli e adolescenti di che ci parla il divino poema dell'iliade solo delle ire di re folli e di popoli folli e quale lode più alta del detto ciceroniano tutto il mondo è pieno di pazzi chi infatti non sa che qualunque bene a quanti più si estende tanto più vale ma forse per i cristiani l'autorità di costoro non ha gran peso perciò se credete possiamo poggiare o come dicono i dotti fondare le nostre lodi sulle sacre scritture cominciando col chiedere il permesso ai teologi poi dato che un'ardua impresa ci attende e che forse non sarebbe giusto vista la lunghezza del viaggio invocare di nuovo le muse dall'elicona e per una cosa poi che poco le interessa credo migliore partito mentre faccio il teologo procedendo per uno spinoso calle scegliere l'anima di scoto spinosa più di ogni istrice e porcospino perché dalla sua sorbona per un po' si trasferisca nel mio petto per poi migrare dove preferisce magari in un corvo volesse il cielo che potessi mutare aspetto e comparire nelle vesti del teologo temo invece che mi si creda colpevole di furto come se per farmi una così bella preparazione teologica alla chetichella avessi saccheggiato i tesori dei maestri ma che c'è da stupirsi se nella mia lunga e intima consuetudine con i teologi qualcosa ho imparato persino Priapo il dio di legno di fico sentendo leggere il padrone aveva finito col tenere a mente qualche parola greca e il gallo di luciano per lunga convivenza con gli uomini ne conosceva menadito il linguaggio torniamo in argomento scrive l'ecclesiaste nel primo capitolo primo 15 infinito è il numero degli stolti e parlando di numero infinito non sembra forse intendere tutti gli uomini a eccezione di pochissimi che probabilmente nessuno ha mai visto con più chiarezza si esprime Geremia quando nel capitolo decimo decimo quindici dice ogni uomo è reso stolto dalla sua sapienza attribuisce la sapienza soltanto a dio e lascia la stoltezza a tutti gli uomini decimo sette e dodici e ancora poco prima in nono ventitré l'uomo non riponga nella sapienza al suo vanto ma perché ottimo Geremia non vuoi che l'uomo riponga nella sapienza al suo vanto perché risponderebbe certamente l'uomo non ha la sapienza ritorniamo all'ecclesiaste quando esclama 1,2,12,8 vanità delle vanità tutto è vanità che altro vuol dire secondo voi se non che la vita umana è tutta un gioco della follia con questo dava senza dubbio il suo consenso a quel detto di Cicerone a buon diritto famoso che abbiamo riferito poc'anzi tutto il mondo è pieno di stolti tornando al saggio ecclesiastico quando diceva 27,12 lo stolto muta come la luna il sapiente come il sole non muta voleva dire semplicemente che tutti i mortali sono stolti e che il titolo di sapiente spetta solo a Dio la luna viene identificata dagli interpreti con la natura umana il sole fonte di ogni luce con Dio con ciò si accorda quanto Cristo stesso nega nel Vangelo Matteo 19,17 che qualcuno possa chiamarsi buono eccetto Dio se è stolto chiunque non è sapiente e se chi è buono stando agli stoici è anche sapiente la stoltezza di necessità è retaggio di tutti gli uomini si legge ancora nel capitolo quindicesimo ventuno di Salomone lo stolto si bea della sua stoltezza e con questo chiaramente si ammette che senza la stoltezza la vita non ha nulla da offrire alla stessa conclusione aprò dal detto chi più sa più soffre chi più conosce più spesso si indigna ecclesiaste 1,18 la stessa cosa quell'eccelso predicatore riconosce apertamente nel capitolo settimo 5 quando dice nel cuore dei sapienti il dolore nei cuori degli stolti la gioia non riteneva infatti che bastasse il pieno possesso della sapienza bisognava conoscere anche me la follia se poi prestate poca fede a me leggete le parole che scrisse nel primo capitolo 17 volsi il mio cuore ad apprendere la saggezza e la scienza gli errori e la follia e qui va notato che l'essere collocata all'ultimo posto torna all'ode della follia l'ecclesiaste ha scritto e sapete che questo è l'ordine ecclesiastico che chi è primo per dignità deve occupare l'ultimo posto il che è conforme al dettato evangelico che poi la follia è superiore alla sapienza lo attesta chiaramente nel capitolo 64 41 18 anche l'ecclesiastico chiunque egli sia ma per Ercole non riferirò le sue parole se prima non avrete collaborato con me in una serie di appropriate risposte come fanno nei dialoghi di Platone e gli interlocutori di Socrate che cosa è più opportuno nascondere le cose rare e preziose o quelle comuni e da poco perché tacete anche se cercate di non scoprirvi parla per voi il proverbio greco che dice della brocca alla porta di casa e sacrilego sarebbe rifiutarlo perché lo troviamo in Aristotele il nome dei nostri maestri o forse qualcuno di voi è così stolto da lasciare per la strada oro e gemme non credo per Ercole sono cose che riponete in nascondigli inaccessibili e addirittura negli angoli più segreti di una cassaforte a tutta prova in mezzo alla strada lasciate i rifiuti perciò se si nasconde quanto è più prezioso mentre si lascia in vista ciò che vale meno la sapienza che l'ecclesiastico vieta di nascondere non sarà palesemente meno pregiata della stoltezza che comanda di nascondere ascoltate le sue parole testuali l'uomo che nasconde la sua insipienza è migliore dell'uomo che nasconde la sua sapienza 41-18 che dire dell'ingenuo candore che le sacre scritture attribuiscono allo stolto di contro all'atteggiamento del sapiente che non crede nessuno suo simile così infatti intendo le parole del decimo tre dell'ecclesiaste ma lo stolto quando va per la strada essendo lui stolto crede che tutti lo siano e non è forse indizio di singolare candore supporre che tutti siano uguali a te e in un mondo di presuntuosi estendere a tutti gli altri ciò che in te c'è di buono perciò il gran re Salomone non si vergognò di questa qualifica quando nel trentesimo capitolo Proverbi 32 disse sono il più folle degli uomini e San Paolo il grande dottore delle genti scrivendo ai Corinzi 11-23 non disdegnò la denominazione di stolto parlo dice da dissennato sono io il più dissennato come se essere superato in fatto di follia fosse sconveniente qui mi danno sulla voce certi greculi meschini che si ingegnano di cavare gli occhi alle cornacchie cioè ai teologi del nostro tempo spargendo in giro il fumo delle loro occhiose ai sacri testi e se il mio amico Erasmo che molto spesso ricordo a titolo di merito non è l'alfa il primo della schiera certo è il beta il secondo che razza di citazione pazzesca dicono proprio degna della pazzia in persona l'apostolo l'apostolo intendeva una cosa ben diversa dai tuoi vaneggiamenti con le sue parole non cerca di farsi passare per più stolto degli altri ma avendo detto in precedenza sono ministri di Cristo e anch'io lo sono ed essendosi così collocato con una punta d'orgoglio alla pari con gli altri rettifica ma io lo sono anche di più perché nel ministero del vangelo sente di essere non solo alla pari con gli altri apostoli ma un poco al di sopra tuttavia volendo che l'affermazione suonasse vera senza peraltro urtare gli ascoltatori con un eventuale sospetto di presunzione adottò la follia come copertura e disse parlo da dissennato perché sapeva che dire la verità senza offendere nessuno è privilegio dei soli pazzi che cosa intendesse davvero Paolo quando scrisse a quel modo lascio che siano loro a decidere io seguo i grandi teologi grassi e grossi e in genere molto stimati buona parte dei dotti per Giove preferisce sbagliare con loro piuttosto che essere nel giusto con codesti trilingui e nessuno tiene il parere di questi grecoli da quattro soldi maggior conto del gracchiare di un corvo soprattutto da quando ha commentato quel passo da maestro e da teologo un illustre teologo per prudenza ne taccio il nome perché i nostri volatili gracchianti non si affrettino ad affibbiargli il motto greco dell'asino che suona la lira con le parole parlo da dissennato anzi io lo sono più di tutti fa cominciare un nuovo capitolo e con insuperabile rigore dialettico aggiunge un nuovo capoverso interpretando così riporterò le sue parole e non solo nella lettera ma anche nel loro significato parlo da dissennato cioè se vi sembro folle mettendomi alla pari con gli pseudo apostoli anche più folle vi sembrerò ponendomi al di sopra di loro purtroppo quel teologo subito dopo quasi dimentico di sé cambia argomento ma perché mi affanno tanto con questo solo esempio tutti riconoscono ai teologi il diritto di manipolare il cielo ossia le sacre scritture tirandole in qua e in là come un elastico tanto è vero che in San Paolo entrano in contraddizione parole della scrittura che nel sacro testo non sono affatto in contrasto almeno se vogliamo prestare fede a San Girolamo che sapeva ben cinque lingue così letta per caso ad Atene la dedica di un altare Paolo ne forzò il significato a beneficio della fede cristiana e tralasciando le altre parole che avrebbero nuociuto al suo proposito staccò dal contesto solo le ultime due al dio ignoto e anche queste con qualche variante la dedica esatta era infatti questa agli dei dell'Asia dell'Europa e dell'Africa agli dei ignoti e stranieri penso che questi figli di teologi seguendo nell'esempio sopprimendo qua e là quattro o cinque parolette e all'occorrenza anche alterandole le adattino ai loro scopi poco importa poi se le parole che precedono o quelle che seguono non c'entrano per nulla o addirittura sono in contrasto lo fanno con una tale impudenza che spesso i giure consulti sono tratti a invidiare i teologi che mai hanno più da temere da quando quel celebre a momenti mi sfuggiva il suo nome ma di nuovo mi trattiene il proverbio greco ha ricavato dalla parola di Luca 22 35 36 un principio che si accorda con lo spirito di Cristo come il fuoco con l'acqua infatti nell'ora dell'estremo pericolo quando i fedeli adepti si stringono di più ai loro protettori per impegnarsi con ogni risorsa al loro fianco Cristo perché i suoi smettessero del tutto di confidare in questo genere di aiuti chiese loro semmai avessero sentito la mancanza di qualche cosa quando li aveva mandati per il mondo così poco equipaggiati da non avere né calzari contro le spine e i sassi né bisaccia contro la fame avendo essi risposto di no che nulla era mancato soggiunse ma ora chi ha una borsa la prenda e altrettanto faccia con la bisaccia e chi non ne ha venda la sua tunica e compri una spada ora dato che tutta la dottrina di Cristo predica solo mansuetudine tolleranza disprezzo del mondo non è chi non intenda il giusto significato di questo passo il proposito è di rendere i legati di Cristo anche più inermi non solo senza calzari e senza bisaccia ma anche senza tunica nudi e liberi di tutto affrontino la loro missione evangelica non si procurino nulla se non la spada non quella però di cui si servono predoni e parricidi per i loro misfatti ma la spada dello spirito che penetra nel fondo del cuore che taglia via una volta per sempre tutte le passioni sì che nulla vi resti salvo la pietà orbene state un po' a vedere a quale senso riesce a piegare questo passo il nostro famoso teologo secondo lui la spada è la difesa contro i persecutori il sacchetto una sufficiente provvista di viveri come se Cristo ritenendo di aver mandato per il mondo i suoi missionari senza provvederli di mezzi adeguati cambiando parere ritrattasse quanto ha predicato in precedenza o dimenticasse quanto aveva detto che sarebbero stati felici nel dolore fatti segno a ingiuri e supplizi non rendendo male per male perché beati sono i mansueti non i violenti se dimenticando di averli esortati a seguire l'esempio dei passeri e dei gigli non li volesse più vedere partire senza la spada la comprino a costo di vendere la tunica meglio nudi che disarmati il commentatore ritiene inoltre che il termine spada indichi tutto ciò che può servire come arba di difesa e che il termine bisaccia abbracci quanto concerne i bisogni vitali così l'interprete del pensiero divino fa predicare il Cristo in croce da apostoli armati di lance balestre fionde bombarde li carica di valigie sacche e bagagli vari perché non abbiano mai a mettersi in viaggio senza aver debitamente pranzato né il bravo uomo e turbato neppure dal fatto che Cristo ingiunge di rimettere subito nel fodero quella spada che aveva ordinato di comprare a così caro prezzo e che mai per quel che ne sa gli apostoli hanno fronteggiato con spade e scudi la violenza dei pagani come avrebbero fatto se il pensiero di Cristo fosse stato conforme a questa interpretazione c'è poi un altro e non certo l'ultimo venuto per deferenza non ne faccio il nome che basandosi sul riferimento di Abacuc 3.7 alle tende di Madian le pelli del paese di Madian saranno messe sossopra ne ricava un'allusione alla pelle di San Bartolomeo scorticato di recente partecipai io stessa a una discussione teologica lo faccio spesso poiché uno dei presenti chiedeva in che conto si doveva tenere il precetto delle sacre scritture secondo cui gli eretici vannoarsi sul rogo piuttosto che non persuasi attraverso la discussione un vecchio dall'aspetto severo teologo anche nel piglio rispose molto indignato che la legge risaliva all'apostolo Paolo che disse a Tito 3.10 dopo aver tentato ripetutamente di mettere l'eretico sulla buona strada evitalo e più volte tornava a dire quelle parole mentre erano imparecchie a chiedersi che cosa mai gli succedeva finì con lo spiegare che bisognava togliere dalla vita e vita l'eretico ci fu chi errise ma ci fu anche chi ritenne l'interpretazione ineccepibile dal punto di vista teologico e poiché qualcuno continuava a protestare intervenne un avvocato cosiddetto di tenedo un'autorità irrefragabile state a sentire disse la scrittura dice non lasciar vivere l'uomo malefico ma ogni eretico è malefico quindi tutti i presenti ammirarono la soluzione ingegnosa e vi aderirono battendo forte i piedi calzati di stivali a nessuno venne in mente che quella legge riguardava incantatori e maghi detti in lingua ebraica malefici altrimenti la pena di morte dovrebbe stendersi alla fornicazione e all'ubriachiezza sono una sciocca a volermi dilungare su queste cose così numerose che neanche tutti i volumi di crisippo e di didimo basterebbero a contenerle volevo solo farvi presente che se tanto è stato concesso a quei maestri di primissima grandezza è giusto usare qualche indulgenza a me teologa di ben poco conto se le mie eccitazioni non sono del tutto esatte e ora tornando finalmente a paolo parlando di sé dice voi sopportate di buon grado i folli seconda lettera ai corinzi 11-19 e ancora accettatemi come un folle e poi non parlo ispirato da dio ma quasi come un folle e altrove di nuovo siamo folli a cagione di Cristo avete sentito quali elogi della follia e da quale pulpito e che diremo di quel suo raccomandare la stoltezza quale fonte per eccellenza necessaria in vista della salvezza chi di voi sembra sapiente divenga stolto per essere sapiente in Luca 34-25 Gesù chiama stolti i due discepoli cui si era accompagnato per la strada non so se ci si debba meravigliare visto che allo stesso Dio San Paolo attribuisce un pizzico di follia dicendo la follia di Dio è più saggia del senno degli uomini prima lettera ai corinzi 11-25 Origene per certo contesta che questa follia sia suscettibile di essere tradotta in termini umani come nell'altro esempio la parola della croce è follia per gli uomini che si perdono prima lettera ai corinzi 1-18 ma perché mai insisto nel sostenere tutto questo con tante testimonianze non ce n'è bisogno se nei mistici salmi 68-6 Cristo stesso dice al padre tu conosci la mia follia e non per caso i folli sono sempre stati tanto cari al signore per la stessa ragione credo per cui i sovrani guardano con diffidente antipatia le persone troppo intelligenti così accadeva a Cesare con Bruto e Cassio mentre di quell'ubriacone di Antonio non aveva alcun timore così accadeva a Nerone con Seneca e a Dionigi con Platone mentre si trovavano bene con gli uomini privi di acume allo stesso modo Cristo costantemente detesta e condanna quei sapienti che hanno fiducia nella propria saggezza lo attesta chiaramente San Paolo quando dice Dio sceglie ciò che il mondo considera stolto e che Dio aveva voluto salvare il mondo attraverso la stoltezza perché attraverso la saggezza non era possibile prima lettera ai Corinzi 1 Dio stesso lo rivela con sufficiente chiarezza quando esclama per bocca del profeta manderò in fumo la sapienza dei sapienti e condannerò la saggezza dei saggi e ancora quando Gesù lo ringrazia perché aveva rivelato ai piccoli cioè agli stolti il mistero della salvezza che aveva celato ai sapienti in greco infatti il termine per indicare i bambini è infanti nepioi in contrapposizione ai sapienti soffoi nello stesso senso vanno intesi certi motivi ricorrenti nel Vangelo Gesù che fieramente si leva contro farisei scribi e dottori e viceversa la sollecita protezione che accorda al volgo ignorante che altro vogliono infatti dire le parole guai a voi scrivi e farisei se non guai a voi sapienti Matteo ventitresimo tredici ventisette Luca undicesimo quarantadue quarantatré invece il suo rapporto con bambini donne pescatori pare fosse improntato a perfetta letizia anche fra le bestie Cristo predilige le più lontane dall'astuzia della volpe perciò preferì cavalcare un asino anche se volendo avrebbe potuto senza rischio cavalcare un leone così lo spirito santo è sceso dal cielo in sembianza di colomba non di aquila o di sparbiero inoltre nelle sacre scritture si ricordano un po' dappertutto cervi capretti agnelli aggiungasi che Gesù chiama pecore e i suoi discepoli destinati a vivere in eterno né c'è animale più stupido di questo stando anche al detto aristotelico indole di pecora che come Aristotele avverte tratto dalla stupidità di quell'animale di solito si applica a titolo ingiurioso agli stupidi e tardi tuttavia Cristo si professa pastore di questo gregge anzi egli stesso si compiacque di chiamarsi agnello e Giovanni Battista lo indicò con questo nome ecco l'agnello di Dio denominazione che ricorre spesso anche nell'apocalisse di qui una clamorosa conclusione i mortali anche quelli che coltivano sentimenti di pietà sono stolti lo stesso Cristo per venire in aiuto all'umana sapienza lui che è la sapienza del padre si è fatto in qualche modo stolto quando vestite le umane spoglie si è presentato con sembiante di uomo come si è fatto anche peccato per risanarci dai peccati né bolle porvi altro rimedio se non la follia della croce valendosi di apostoli rozzi e ignoranti cui ebbe cura di predicare come ottima condizione la stoltezza distogliendoli dalla sapienza quando li esorta a seguire l'esempio dei bambini dei gigli del grano di senape dei passerotti esseri del tutto privi di intelligenza che vivono solo affidandosi alla natura senza artifici senza affanni e quando proibisce loro di preoccuparsi della linea da tenere davanti ai giudici e di stare allerta per cogliere i momenti opportuni non devono cioè confidare nella propria saggezza ma mettersi totalmente nelle sue mani allo stesso principio si ispira Dio architetto del mondo quando proibisce di assaggiare il frutto dell'albero della sapienza quasi che la scienza fosse il veleno della felicità San Paolo d'altra parte condanna la scienza apertamente come fonte di presunzione e di rovina e credo che San Bernardo si richiamasse a lui identificando il monte che Lucifero aveva scelto per sua sede col monte della scienza forse c'è anche un altro argomento che non dovrei tralasciare la stoltezza trova grazia presso gli dèi al sapiente non si perdona tant'è vero che chi implora al perdono anche se ha peccato con cognizione di causa adduce a pretesto la stoltezza e di essa si fa usbergo così infatti se la memoria non mi tradisce né i numeri 12-11 a Ronne cerca di stornare dalla moglie la punizione del signore ti prego signore non giudicarci colpevoli abbiamo peccato per mancanza di discernimento e anche Saul di fronte a Davide si discolpa così è chiaro dice che ho agito da sciocco e Davide a sua volta cerca di propiziarsi il signore con queste parole ti prego signore non accusare il tuo servo di iniquità o agito da sciocco come se non potesse ottenere il perdono se non appellandosi alla sua stoltezza e alla sua insipienza prova di eccezionale efficacia Cristo in croce quando pregò per i suoi nemici e portò come unica scusa all'ignoranza padre perdona loro perché non sanno quello che fanno Luca 23-24 nello stesso senso Paolo scriveva a Timoteo ho ottenuto la misericordia divina perché nella mia incredulità ho agito per ignoranza prima lettera Timoteo 1-13 che vuol dire ho agito da ignorante se non che aveva agito per stoltezza non per malizia che significa perciò ho ottenuto misericordia se non che non l'avrebbe ottenuta se la sua stoltezza non avesse deposto in suo favore fa al caso nostro il mistico salmista che non mi è venuto in mente al momento giusto non ricordare le colpe della mia gioventù e le mie ignoranze salmi 24-7 come avete sentito aduce due argomenti la giovane età a cui sempre io la follia mi accompagno e le ignoranze ricordate al plurale per far intendere la grande forza della follia per non dilungarmi all'infinito cercherò di riassumere per sommi capi se la religione cristiana sembra avere qualche parentela con la follia con la sapienza non ha proprio nulla a che fare desiderate averne una prova? guardate in primo luogo al fatto che bambini vecchi donne e anime semplici godono più degli altri delle funzioni religiose e perciò per puro istinto sono sempre i più vicini agli altari vedete inoltre che i primi fondatori della religione con mirabile slancio scelsero le vie della semplicità mentre furono nemici acerrimi delle lettere infine non c'è pazzo che sembri più pazzo di coloro che una volta per sempre siano stati conquistati in pieno dal fuoco della carità cristiana a tal punto sono prodighi dei loro beni trascurano le offese tollerano gli inganni non fanno distinzione tra amici e nemici hanno errore del piacere digiuni veglie lacrime fatiche ingiuri e sono loro nutrimento per nulla attaccati alla vita desiderano solo la morte per dirla in breve sembrano affatto insensibili alle esigenze del senso comune come se il loro animo vivesse altrove e non nel loro corpo e che altro è questo se non follia non dobbiamo dunque meravigliarci se gli apostoli sembrarono ubriachi di vino dolce se Paolo sembra pazzo al giudice festo comunque visto che una volta tanto ho vestito la pelle del leone andrò più in là mettendo in chiaro un'altra cosa quella beatitudine che i cristiani cercano di conquistare a così caro prezzo altro non è se non una forma di follia e di stoltezza non badate alle parole non c'è intenzione d'offesa considerate piuttosto i fatti c'è in primo luogo un punto di contatto fra cristiani e platonici entrambi ritengono che l'anima irretita nei vincoli del corpo trovi nella sua materia un impedimento alla contemplazione e alla fruizione del vero perciò platone definisce la filosofia una meditazione sulla morte perché a somiglianza della morte distoglie la mente dalle cose visibili e corporee perciò finché l'anima fa buon uso degli organi del corpo viene detta sana ma quando spezzati i vincoli tenta ad affermarsi in piena libertà e viene quasi meditando una fuga dal carcere corporeo allora si parla di follia se per caso la cosa accade per malattia per una qualche affezione organica allora è pazzia conclamata tuttavia vediamo che anche uomini di questa specie predicono il futuro sanno lingue e lettere che non hanno mai appreso in passato ostentano qualcosa che appartiene decisamente all'ambito del divino non c'è dubbio questo accade perché la mente libera in parte dall'influenza del corpo comincia a sprigionare la sua forza nativa credo che per la stessa ragione qualcosa di simile accada nel travaglio della morte imminente gli agonizzanti come ispirati parlano un linguaggio profetico se ciò accade nell'ardore della fede si tratta forse di un altro genere di follia ma così vicina all'ordinaria follia che molta gente la giudica capazia pura e tanto più in quanto riguarda un pugno di disgraziati che in tutto il modo di vivere si scostano dall'arresto dell'umano consorzio qui di solito credo si verifichi il caso del mito platonico di quelli che incatenati in fondo alla caverna vedono l'ombra delle cose e del prigioniero che fuggito di là tornando poi nell'antro afferma di aver contemplato le cose reali e che loro si ingannano di molto convinti come sono che nient'altro esista se non delle misere ombre il saggio compiange e deplora la follia di coloro che sono irretiti in così grave errore ma quelli a loro volta ridono di lui come se delirasse e lo cacciano via allo stesso modo il volgo ammira soprattutto le cose in cui la materia prevale e quasi crede che siano le sole ad esistere chi pratica la religione invece quanto più una cosa è attinente al corpo tanto più la trascura ed è tutto preso dalla contemplazione dell'invisibile gli uni mettono al primo posto le ricchezze al secondo le comodità relative al corpo all'ultimo l'anima che dopo tutto i più neanche credono esista perché l'occhio non può scorgerla gli altri invece in primo luogo tendono con tutte le loro forze a Dio il più semplice degli esseri in secondo luogo a qualcosa che ancora resta nella sua cerchia ossia all'anima che più di tutto è vicina a Dio trascurano la cura del corpo disprezzano le ricchezze e ne rifuggono come da cosa immonda se poi non possono esimersi dall'occuparsene ne sentono il peso e la noia hanno ed è come se non avessero posseggono ed è come se non possedessero nei singoli casi ci sono anche molte altre differenze di gradazione prima di tutto benché tutti i sensi abbiano un legame col corpo alcuni sono più corpulenti come il tatto l'udito la vista l'olfatto il gusto altri più distaccati dal corpo come la memoria l'intelletto la volontà dato che la potenza dell'anima risulta maggiore laddove concentra al suo sforzo le persone religiose poiché tutta la forza dell'animo loro si volge alle cose lontane per eccellenza dai sensi più corposi subiscono in questi una sorta di ottundimento il volgo invece in essi raggiunge il massimo della potenza il minimo negli altri si spiega così ciò che raccontano sia accaduto a certi santi di bere olio invece di vino e anche fra le passioni dell'anima alcune sono più legate agli aspetti carnali del corpo come l'impulso sessuale il bisogno di cibo e di sonno l'ira la superbia l'invidia chi coltiva sentimenti di pietà le respinge senza remissione il volgo al contrario ne fa la fondamentale ragione di vita vi sono poi dei sentimenti intermedi quasi naturali come l'amore di patria l'affetto per i figli per i genitori per gli amici il volgo ne riconosce in qualche misura l'importanza ma quanti vivono secondo pietà cercano di sradicare dall'animo anche questi a meno che non raggiungano quel supremo livello spirituale per cui si ama il padre non in quanto padre che è generato infatti se non il corpo e alla fine anche questo è opera di dio padre ma in quanto è buono e porta in sé il lume di quella mente che sola chiamano sommo bene e al di fuori della quale sostengono che nulla merita di essere amato o desiderato con questo medesimo criterio giudicano di tutti i doveri tutto ciò che è visibile se non è da disprezzarsi senz'altro va tenuto in molto minor conto dell'invisibile dicono che anche nei sacramenti e nelle pratiche religiose si possono distinguere corpo e spirito per esempio nel digiuno non fanno gran conto dell'astinenza dalla carne e dal pasto che il volgo considera invece digiuno stretto bisogna che intervenga anche un controllo delle passioni che si conceda meno del solito ai moti di ira o di superbia perché lo spirito già meno gravato dal corpo si innalzi al godimento dei beni celesti altrettanto dicasi dell'eucarestia benché non vada sottovalutato l'aspetto cerimoniale questo per se stesso giova poco o addirittura è pernicioso in mancanza dell'elemento spirituale cioè del contenuto rappresentato da quei segni visibili si rappresenta la morte di Cristo i mortali devono parteciparvi come attori vincendo sopprimendo starei per dire seppellendo le passioni corporee per risorgere a nuova vita per fare in totale comunione fra loro tutt'uno con lui queste le azioni questi pensieri dell'uomo di fede il volgo al contrario crede che il sacrificio sia tutto nello stare quanto più è possibile accanto agli altari ascoltando il rumore delle parole e padando ad altre quisquiglie relative al rito quanto al pio non solo nelle cose che abbiamo portato a esempio ma in ogni occasione rifugge da ciò che è legato al corpo tutto preso dall'eterno dall'invisibile dalla realtà spirituale perciò dato il loro radicale disaccordo su tutto accade che uomini di pietà e volgo a vicenda si prendano per matti ma secondo me l'appellativo si addice piuttosto alla gente pia che non al volgo e ciò risulterà più chiaro se come ho promesso dimostrerò in poche parole che quel sommo premio altro non è se non una forma di follia considerate in primo luogo che qualcosa di simile già vagheggiò Platone quando scrisse che il delirio degli amanti è il più felice di tutti infatti chi ama ardentemente non vive in se stesso ma in colui che ama e quanto più si allontana da sé e si trasferisce in lui tanto più gode e quando l'animo si propone di uscire dal corpo e non usa debitamente dei suoi organi a buon diritto senza dubbio si può parlare di delirio altrimenti che cosa vogliono dire le comuni espressioni non è in sé o anche torna in te stesso e è tornato in se stesso d'altra parte quanto più è perfetto l'amore tanto più è grande tanto più beato il delirio quale sarà dunque quella vita celeste che fa tanto sospirare le anime pie lo spirito che è il più forte sarà vittorioso e assorbirà il corpo tanto più facilmente perché già in vita lo avrà mortificato e indebolito in vista di una simile trasformazione poi sarà a sua volta ammirabilmente assorbito da quella sommamente la cui potenza è infinitamente superiore a questo punto l'uomo sarà interamente fuori di sé e solo per questo felice perché essendo fuori di sé subirà non so quale ineffabile influsso di quel sommo bene che tutto trae a sé anche se questa felicità sarà perfetta solo quando le anime riprese all'antica veste corporea riceveranno il dono dell'immortalità gli uomini pi dato che la loro vita è tutta una meditazione di quella vita immortale e quasi una sua immagine possono talvolta pregustare qualcosa una sorta di anticipazione di quel premio si tratta di una goccia da niente in confronto a quella fontana di eterna felicità ma che vale molto di più di tutti i piaceri corporei anche se potessimo farli convergere tutti in un punto solo a tal punto la sfera dello spirito è superiore al corpo e quella dell'invisibile al visibile questa certo è la promessa del profeta l'occhio non vide l'orecchio non udì non penetrarono nel cuore dell'uomo le cose che Dio ha preparato per coloro che lo amano questa è la parte della follia che il passaggio da una vita all'altra non toglie ma porta a perfezione quelli che hanno potuto parteciparne pochissimi in vero sono colti da un turbamento che alla follia è vicinissimo fanno discorsi incoerenti proferendo parole strane e senza senso e poi all'improvviso mutano completamente d'espressione ora lacri ora depressi ora piangono ora ridono ora sospirano insomma sono davvero del tutto fuori di sé appena rientrano in sé stessi dicono di non sapere dove sono stati se nel corpo o fuori del corpo di ignorare se erano sveglio o addormentati di non sapere che cosa hanno udito che cosa hanno detto che cosa hanno fatto hanno solo dei ricordi che sembrano filtrare attraverso il velo della nebbia o del sogno una cosa sola sanno di essere state al colmo della beatitudine quando erano in quello stato perciò piangono per essere tornati in senno e soprattutto desiderano di essere in eterno in preda a quel genere di follia hanno appena pregustato la felicità futura dimentica di me stesso passato da un pezzo i limiti tuttavia se vi pare che il discorso abbia peccato di petulanza e prolissità pensate che chi parla è la follia e che è donna ricordate però il detto greco spesso anche un pazzo parla a proposito a meno che non riteniate che il proverbio non possa estendersi alle donne vedo che aspettate una conclusione ma siete proprio scemi se credete che dopo essermi abbandonata ad un simile profluvio di chiacchiere io mi ricordi ancora di ciò che ho detto un vecchio proverbio dice odio il convitato che ha buona memoria oggi ce n'è un altro odio l'ascoltatore che ricorda perciò addio applaudite bevete vivete famosissimi iniziati alla follia di chiacchiere